...e riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori. Una volta dicevano che essere Pinocchi era una malattia, io gli dico che non è una malattia. E che cosa? Si dice omosessuale. Purtroppo ci sono certe tendenze. Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso? Per carità, ma per carità. Torno al discorso religioso, Dio ha detto andate e moltiplicatevi, non andate e prendetelo nel culo. Innanzitutto volevo salutare la mia amica Germana. Chi è Germana? Che mi sta ascoltando. E noi che cazzo ce ne prega, scusami. Ho capito, però la saluto... A me non me ne fotte nulla di Germana che ascolta qua, non è Radio Bubu. Ma è meglio Germana. Non è Radio Germana di lei. E ti mando a fare il culo, e ti mando a fare il culo adesso. E ti mando a fare il culo. Pronto, buonasera signori. Io non è che vendevo il giubbotto marcato. Io divento un giubbotto cinese. Vengo vicino a te con un giubbino arancione, ipotesi. Costa 1000 euro, io te lo offro per 100 euro. Lo vuoi? Possiamo chi è? Sì tu che te lo vende o io che te lo vende? Ma ho... Mi tocca tu. Comunque lei ha una faccia da culo che conta veramente. Sì, veramente. Non ce n'è. Vendevo le giacche che erano di plastica e dicevo che era pelle, ma non era marcato. Eh, va bene. La volta era scopata. E poi lo scemo, fammi capire. Cruciato. Bravi. Perché i coglioni vanno incurati, cazzo. Pronto? Sono in diretta con la trasmissione fuori dal culo? Va, va, va. Andate a fare in culo, trasmissione di coglioni. Mi meraviglio che la Confindustria, la grande imprenditoria italiana, faccia andare ancora in onda una trasmissione del genere, Corciani. Perché la sua radio è una radio bellissima. L'ho sentito anche Parisoni prima. Ma i suoi colleghi giornalisti, dovrebbero vergognarsi che lo collegano come lei. La vita è una cosa meravigliosa. E allora divertiamoci. D'accordo? Allora ragazzi, grazie Trento il Tonto, grazie! Evviva! Grazie, siamo in diretta al testo delle comedi Trento indegnamente per il secondo anno consecutivo, però ragazzi, fermi tutti. Messaggio presidenziale prima di iniziare, che viene direttamente da un campo Rom di Roma. Il presidente Bambalau va in regia! Fatemi sentire il calore al direttore! Al dottore! Buonasera a tutti che state lì dentro. Vi saluto io, Bambalau, qua da Roma e economia. È importante per il popolo Rom e per tutti i popoli. Viva la Sant'Era Cruciani, c'è un grande uomo, c'è un valore umano immenso. E ti voglio bere, cucinare. Pazzo, pazzo! Grazie Bambalau, grazie! Ama il suo carnefice praticamente, lui ama il suo carnefice. Sei tu il suo carnefice perché lo porti un palmo di mano e lo prendi in giro. Diciamoglielo, tutta Trento è in piedi per il prossimo ministro degli interni, il dottor Bambalau! Con tutto il rispetto per il dottor Piattedosi che so che in queste ore essere qui a Trento il ministro. Allora ragazzi, prima di presentarvi i due ospiti che già molto nobili al pubblico. E questo è il primo sfregio che hai fatto al gruppo. Perché voglio dire, voglio dire, ma si può... Oggi sei qua! Pongo solo una domanda, ma si può invitare nella radio di Confindustria due note economiste? Due note economiste! Certo! Ma calma, 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 adesso iniziamo subito. Però la prima cosa ragazzi che vi voglio dire, siamo qui a Trento, oggi sono andato a visitare questa prigione bellissima, devo dirvi la verità. C'è una prigione straordinaria qui fuori. Perché parli di prigione con gli ospiti? Si chiama Casteller, non c'è niente. Con gli ospiti che abbiamo, non è possibile. Casteller, si chiama Casteller. In questa prigione c'è un'orsa che io ho ribattezzato JJ Minchia, invece di JJ14. Non sopporto l'idea che questa orsa venga protetta più di quanto fosse protetto Totò Riina o addirittura Messina Denaro. Non è vero! La proteggono come fosse una specie di vacca sacra. Gli uomini vengono in secondo piano. Oggi il tar, voi capite che siamo in mano ai tar. Ma certo! Ai tar del tentino. Il tar del tentino ha deciso che l'orsa non va abbattuta. Ora io vi dico una cosa. Ho mangiato qualche giorno fa la carne di orso, una carne straordinaria. Brutto questo. Una carne morbidissima. Grazie, so che siete con me. Alcuni, non tutti. Vedi che il pubblico si divide. Eh sì, eh sì. Era una carne straordinaria che vorrei mangiare ancora. Vorrei continuare a mangiare. La carne di orso è buonissima. L'orso a noi piace vivo e in alcuni casi morto. Grazie. È un brutto messaggio. Brutto. Seconda cosa che vi voglio dire, poi passiamo alle nostre ospiti che già avete riconosciuto. Vanna Marchi e Stefania Nobile, madre e figlia, grande ingresso qui alla Zazzara. Allora, la prima cosa che vi voglio dire è questa. È insopportabile in queste ore, un po' per ravvivare il dibattito, è insopportabile in queste ore sentire uomini di sinistra, conduttori di sinistra, gridare all'occupazione della RAI. La signora annunziata ha detto che si sente, non voleva sentirsi prigioniera politica. Linguaggio che veniva usato, voi sapete, all'epoca del terrorismo. Ora io dico solo una cosa. Quando la sinistra occupava la RAI, tutto questo casino non c'era. Ci siamo rotti i coglioni. Alla gente non gliene frega nulla di chi c'è la RAI. Possono mettere chiunque. Ma non è vero. Non potrò smetterla di occupare poltroni tuoi, poltroni tutti, destra e sinistra. Grazie. Vanna Marchi e Stefania Nobile, un plato. Mettiamo Vanna Marchi e Stefania Nobile, caldo. Io ho subito una proposta perché mi sono arrivati qui i nuovi palinsesti della RAI e a condurre la trasmissione un giorno in pretura saranno noi e Marchi. Un giorno in pretura dovete fare. Un giorno in pretura. Quella è la trasmissione vostra. Scusi signora Marchi, buonasera. Buonasera. Buonasera, innanzitutto. Quanti anni ha lei signora Marchi? 81. Che bello. Ma arrivarci a 81 anni come sei tu, Vanna. Arrivarci. Sai che io voglio davvero bene a questa donna? Perché questa donna qui ha passato... Vorrei voler bene a Vanna Marchi. Ma carità. Perché non posso voler bene a Vanna Marchi? Perché voglio bene a Vanna Marchi. Cioè, voglio bene a Vanna Marchi. Ma mi vuoi bene anche tu, dai. Io ho querelato per molto meno. Però io voglio bene a Vanna Marchi perché è la storia di un grande riscatto. La storia di un grande riscatto. Ma qualche riscatto? Perché queste due signore qui sono state tra le poche ad aver pagato. Ad essere andate in galera. In galera. Tra le poche. Non qui a Trento. In generale ci sono per esempio colletti bianchi che non vanno in galera. Ma che c'ha? Colletti bianchi che non vanno in galera. In galera ci vanno spesso i disgraziati. Ma che mica i disgraziati? Non erano disgraziati, certamente. Hanno guadagnato un fottio di denaro le signore. È quello che ti erode a te. Ma tu pensa se avessimo fatto la galera per un cazzo e non avessimo guadagnato niente. Scusa. Allora eravamo noi le scoglioni. Siete dei disvalori. Voi siete un disvalore ambulante. Disvalore ambulante. Amore mio. Tanto guarda, quando ci incontriamo in privato ci vogliamo bene. Qua dobbiamo litigare. Litighiamo ma non ci crede nessuno. Io poi ho... Calma calma, voglio chiedere una cosa a Vanno. Tantunanni, come ti è venuta in mente quella cosa che i coglioni vanno inculati? Perché ormai tu sei diventata, sei famosa anche per altri, però su TikTok e su altri social network domina questa cosa qua. Adesso davanti a tutti, puoi per favore fare questo grandissimo slogan? Io lo trovo straordinario perché è uno slogan che ha che stare con la società. Siamo al senso dell'economia di Trento. Con la società. Beh, anche qui non è che qualcuno inculerà pure qua. No, non credo. A cazzo. Non ti preoccupare. Inculeranno alla Trentina. Lo faranno alla Trentina ma lo fanno anche qui. Sì, lo manipulavo io in senso anche economico, dicevo. No, no, certo. Però allora la cosa è questa. Ma non potremmo avere ospite Stiglitz, il dottor Stiglitz. Ma chi ce ne frega noi di Stiglitz? Anzi che è la signora Nobile. Chiedi se gliene frega di Stiglitz. Dai, chiedi. Ma gli frega moltissimo. È un Nobel per l'economia. Sono lì, chiedi. A voi interessa più la Marchi e la Nobile oppure Stiglitz, ragazzi? La Marchi. Perché il diavolo piace sempre. Grandi, grandi. Allora, signora Marchi, com'è venuta in mente questa cosa che i coglioni vanno inculati? Perché in realtà c'è un fondo di verità. Perché nelle truffe, per esempio, vediamo il caso per esempio di Trevignano, chi crede alla cosa di Trevignano, possiamo dirlo tutti, è un coglione. Ma inculato di brutto e a sangue proprio. Ma signora, ma chi? Scusa, tu che secondo lei quelli che vanno là e credono che la statuina piange, che la statuina è della Madonna, per carità, gente anche rispettabile, sono degli imbecilli, diciamo la verità, dei coglioni totali. Magari se andassero in chiesa sarebbe meglio. Sì, sarebbe meglio, certo. Sì, sarebbe meglio. Lei che cosa farebbe alla signora di Trevignano, la famosa santuola di Trevignano? No, niente, perché per me è una faccia da culo che guarda veramente. Adesso signora, signora, è vero? Qui è il bue che da del cornuto all'Asia, madame. No, è vero, mi perdoni, mi perdoni. Amore, mia mamma ne faccia un po' meglio. Ho capito. Hai capito? Sai cosa? Lei va in giro coi bodyguard, io mai, 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 hai capito? No, è vero. Allora, cioè lei dice che le persone l'amano sostanzialmente. Sì, adesso si l'amano. Vedi un po'? Le persone l'amano, sì. È incredibile, ma è così. Non è incredibile, secondo me non è incredibile. Ha pagato, hanno pagato. Il carcere, sono vive e veggie, che non è scontato, naturalmente vive e veggie, non è scontato. Ancora lavorano, non devono dire di sì a nessuno per forza per lavorare perché fanno i cazzi loro. Cosa vuoi di più della vita? Una grande storia di riscatto. Però la parola, adesso poi chiudiamo questa cosa, la parola pentimento lei non l'ha mai usata, signora Marchi, come mai? Perché non sono pentita di niente. Brava, questa cosa mi piace tantissimo. Una persona che non si pente di nulla, a me piace tantissimo, piace tantissimo. Mai. E quando qualcuno le dice ancora nelle trasmissioni, eccetera, bisogna pentirsi, bisogna chiedere scusa alle cose, lo chiedono continuamente. Beh sì, almeno scusa alle persone che ha truffato, che ha fatto... Ma che palle però... Ma ha già cattato Luca Mello! Ma come mai? Ma ha già scassato Luca Mello, veramente, basta! Ma perché? Ma perché no? Basta! Così chiudiamo, perché lei non chiede mai scusa? Ma perché non devo chiedere scusa? Perché a te piacciono i pentiti? Vorrei sapere da lui. No, i pentiti. Perché lui ha un amore sviscerato per i pentiti. Perché chiede scusa quando uno ha sbagliato? Ma scusa serve avere uno sconto di pena, lo capite o no? Io trovo incredibile. Lo capite o no? Lei è contro i pentiti la signora. Che i pentiti chiedono scusa, ammazzano e dicono scusa, mi pento e hanno uno sconto. Un concetto diverso. E tu li appoggi, e tu li appoggi. Se i pentiti servono ad arrestare altri mafiosi, certo che li appoggio. Se io torno indietro, ammazzo qualcuno, almeno la galera la faccio per un motivo giusto. Sì, sì. Diciamo questo. Tu pensa che... Lei è d'accordo con la figlia? Lei è d'accordo? Qualche volta lei è in disaccordo con la figlia? Si trova mai in disaccordo? Come no? Certo. Tante volte. Certo, ci picchiamo pure. E beh, l'associazione del lincolo. Facciamo un commento politico. Vi piace il governo Meloni? Ha il vostro gradimento, la vostra approvazione? Come mai? Per un motivo molto semplice. Sentiamo. Che quando arrivano lì sono tutti uguali. All'opposizione sono tutti torri. Al governo sono tutti agnelli. E' il nostro Stefano Folli, è il nostro editorialista, che in una riga ha detto la verità. Quando arrivano sono tutti gli stessi. Tutti uguali. Stefania Nobile, lei conferma? Confermo. Lei conferma. Ma poi sai cosa? Io sono una donna antica. Cioè? E molto sinceramente ti dico, a me una donna al governo non piace. Ma è l'unica in controtendenza. Hai capito? Eh, che è che è? È anche stata ospite qui, anche se in collegamento. Ma a me cosa me ne frega se è stata ospite qua? Non ho capito. Non ho capito? Ma come si permette? Ma a casa di qualcuno dice cosa me ne frega? Siamo tra le poche donne che hanno ammirazione per gli uomini e dobbiamo avere una colpa. Abbiamo questo argomento molto interessante perché noi siamo due profondamente antifeministe. Diciamo che le femministe per comodo non mi piacciono. Mi piacciono le femministe, quelle di ideali. Perché la melonia al governo va bene? Perché una donna dice... Perché è debole, è debole. No. No, non è debole, è furba questa. Come una volpe. Sai, le volpe sono furbe. No, ma adesso non dice più niente. Se le fosse data occasione, che ministero vorrebbe lei? Ecco, questo è interessante. Di che cosa? No, se le fosse... Ministro Vanna Marche, ministro per che cosa? Diciamo, quale sarebbe il ministero? No, no, no. Forse all'economia? Forse no! Forse all'economia no! Però vedi, anche qua, ti devo correggervi, perché rubare è un discorso, truffare è un altro. No, certo, certo, certo. Eh no? Questa è distinzione sottile. Voi avete truffato o rubato, secondo voi? Truffato. Ah, truffato. Allora, complimenti, grazie a me, truffato. Ebbè, ma lo sa tutto il mondo. Sì, ma complimenti per l'istrata. Mai negato. Grazie molto per aver solo truffato. Grazie per aver solo truffato. Mai negato. Grazie molto per aver truffato. Mentre, ascolta... È una cosa pazzesca. No, no, abbiamo fatto la galera. E allora non lo vuoi capire. Lo vuoi capire. Grazie per la truffa. Allora, capisci, ho t'ancappesso un caso. Grazie per l'unica trasmissione in cui si invita una persona che dice ho truffato e la si ringrazia. Unica trasmissione al mondo. Ah, grazie. Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Arrestateli, piante dosi. Oh, l'ardosa. Con Fluentis CRP la tua azienda è più efficiente. Provalo online su fluentis.com Buonasera, ben trovati. Dopo un pomeriggio di grandi spostamenti e disagi, la situazione rimane critica nel percorso laziale dell'autostrada del Sole, dove a causa dello scoppio di una gomma da parte di un camion con rottura del serbatoio rimane chiuso il tratto compreso tra Valmontone e Anagni verso Napoli e tra Anagni e Colleferro in direzione della capitale. Si registrano ben 12 chilometri di coda tra la A24, l'uscita obbligatoria di Valmontone verso Napoli, 12 chilometri di coda anche in direzione Roma tra Ferentino e Colleferro. Ripercussioni sulla diramazione Roma-Sud, 6 chilometri di coda a partire da Monteporzio-Catone verso la 1. Lunghe code per ripercussioni anche sulla via Casilina in entrambe le direzioni tra Labico e Anagni. Sempre sull'autosole un incidente provoca code nel percorso emiliano tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione Napoli. Ci spostiamo ora in Lombardia sulla A4 Serenissima, code per incidente tra Monza e Cavenago verso Venezia e tra la tangenziale Est e Monza in direzione Milano. Infine a Genova, oltre ai grossi disagi per lavori rugenti sulle autostrade del capoluogo Ligure, per un mezzo in fiamma ora spento, code sulla A7 Milano-Genova tra l'innesto con la A10 e quello con la A12 verso Milano. Ripercussioni e code sull'autofiori a partire dalla A26 dei trafori. Da Radiotraffic vi saluta Lorenzo Zappullo, strada in diretta tornerà le 20.45. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamatelo 824 0024 o zappate il 393 7171 701. Non negateci, un po' di seno colunquisi. Perché i coglioni vanno inculati, cazzo! Chi è sta gente? Allora, io ancora non ho chiesto l'origine di questi coglioni vanno inculati, cara signora Marchi. Come nasce questa cosa qui? Perché lei non l'ha mai detta durante le sue, ovviamente, durante le sue televendite. Non mi ricordo cosa mi chiese, io ho risposto così perché... In maniera genuina, normale. Perché è una persona educata, per bene. Tu come avresti detto? Vediamo. Con la tua galanteria, paraculaggine, cosa avresti detto? Perché fino ad oggi non ho mai truffato nessuno. Grazie, bravo! Attenzione! Falso! Falso! Ma come si permette? Tu stai diffando anche in questo momento. Falso! Ha ragione, però. Devo dare ragione. Tu hai detto una volta, forse Stefania, ha detto una volta che se incontrassi Parenzo di fronte e dicesse qualcosa che non va, che cos'è che faresti? Gli smordo il cervello, gli stacco la testa e gli succhio il cervello. Ma non è una cosa ma vera. Tu hai mangiato l'orso, io mangio Parenzo. Avete sempre queste immagini così... Truculente. No, gentili, eleganti. Sì! Che si adattano al festival del comune. Ecco, perché a voi non vi piace il femminismo? A voi vi piace la donna tradizionale? Allora, io ho sempre detto che la donna che fa lavare, fa fare la lavatrice all'uomo, fa lavare i calzini, per me è uno svilire l'uomo, cioè io no, ma come lo vedi? Lui fa... Cioè tu a casa lavi... Io faccio. E tua moglie ti vede come... Sessualmente come ti vede? Ma non lo so, signora nobile. Come un calzino appeso ti vede, ma dai, su. Ma io faccio anche aiuto a casa, è normale che sia così. Certo, uomini che va... Allora, danno da mangiare ai bambini, fanno la spesa, fanno la lavastoviglie, fanno... Ma che cazzo fa la donna, scusa? Ma giustamente... Ma cosa fa la donna? No, ma soprattutto hai detto una cosa prima, stai parlando molto interessante. Hai detto l'uomo... La donna, poi, sessualmente, come fa a vedere un uomo come Parenzo che stira? No! Dice che stira? No, no! Io con l'angolo cambio i pannolini, ho quattro figli ho cambiato i pannolini a tutti. Magari stiri con grembiulini, ma quello è un'altra cosa. Ma quale grembiulino? Fare il papà è una cosa straordinaria. E ho pulito il sedere a tutti i miei pannolini. Quello buono! Quello ti fa onore e la pienso anche così. Cosa che avreste dovuto fare anche voi, quello a un certo punto di pulire il sedere come pena rieducativa? A chi? A chi? No, no, il culo lo pulisci tu. Alle persone che sono state truffate, avreste dovuto andare lì e pulire, capito? Culo a pulire i culi sei bravo tu, io no. Tu sei bravo anche alle cari i culi. Io no. A me non piace le cari i culi. Torniamo ai macro temi. A me piace l'uomo che fa l'uomo, non l'uomo che legge il culo col grembiulino che spiega. Torniamo ai macro temi. Torniamo ai macro temi. Avete visto che la Rai c'è la sinistra che si lamenta, ma voi siete le vere esiliate della televisione. Diciamo la verità. Non so perché. A te lo spiego io perché. Perché la verità non si può dire. No. In Netflix abbiamo detto tante verità su Mediaset. Mediaset chiuso la porta. Certo. Certo, certo. E' il contrario. Allora, non puoi dire la verità in Italia. Se in Italia vuoi lavorare in televisione devi le cari i culi. A me e mia mamma le cari i culi non piace. Cioè dunque parezza le cari i culi. Noi andiamo le cari i culi anche lui, certamente. Ma ho capito, ma anche il dottor Del Debbio, anche il dottor Giordano. Guarda, tutti, tutti, tutti. Via quel logo, via quella musichetta. Copioni, tutti copioni, leggono un copione. Io e mia mamma non abbiamo copioni. Ma neanche io nessun copione. Non esiste. Zero copione. Ma tu non puoi dire quello che pensi. Ma non potrai. Direi mai le cose vostre perché mi arresterei per un minuto dopo. Le cose nostre. Non direi mai. Non userei mai. Però, scanna, questo l'abbiamo esaurito. Voglio chiedere una cosa. Voi avete, vi piace l'uomo forte, no? Sì. Signor Mussolini ha fatto cose buone nella storia. Oddio, adesso non vorrei Mussolini assolutamente, ma qualcosa di buono ha fatto assolutamente. Ha fatto un grande errore, allearsi con Hitler. Ma non sono due storiche, porca puttana. Sono Vanna Marchi Nobile. Però non siamo idiote, eh. Ma credimi. Che non siamo idiote neanche ignoranti. Ma le tratti come fosse restate felice. Non è felice. Voi chi volete a parlare? Gente che ha vissuto e si è fatti il culo o gente che ha letto due paginine di libro? Ma come? Dai, dittelo voi! Il Tottormiele è uno stesso storico, il Tottormiele. Ma non me ne frega niente. Ma come gli frega niente? Non me ne frega un cazzo. Ma non gli frega nulla del Tottormiele. A me no. A me no. Cosa pazzesca. Volevo chiedere a Vanna se anche lei ha un'ammirazione per il Pelatone. Per il signor Pelatone e il signor Mussolini. Dato lei è di Bologna, per cui di quella zona di predappio. Qualcosa di buono ha fatto. È un discorso difficile. Ascolta, secondo me è di sinistra. Perché Vanna Marchi nasce nelle feste dell'unità. Ma te che cazzo tu ne frega? Ma io lo so. Ma io lo so. Tu nasci nelle feste dell'unità. La Romagna Felix. Sì, lo so. Allora, ascolta. Rispondiamo a questa domanda. Io ho vinto alla festa dell'unità, per 28 anni, il miglior tortellino fatto da Vanna Marchi. Chi è? Come venderebbe Parenzo lei? Come venderebbe Parenzo? È difficile. Ci vuole un periodo di grande vendita. Mi metto in piedi. Mi metto in piedi. Come lo vedi? È molto difficile perché, vedi, pagare lui, io non so chi è che paga questo qua. Io lo vorrei conoscere. Io lo voglio conoscere. Lo voglio conoscere. Ma c'è quello che dà la busta a Parenzo. Un'ultima cosa è questa. Voi, gli omosessuali, come li considerate? Ma per me sono persone. A me non me ne frega niente. Io sai cosa dico. Per me una persona in casa sua, nel suo letto, può fare quello che vuole. Io, quando qualcuno dice, ho tanti amici gay. Fa schifo. Allora. C'è il sospetto. Non si dice. Non si dice. Ma dai, uno ha un amico chiuso. Certo, bravo. Io cosa ne so. Però, allora, diciamo che i peggiori nemici dei gay sono i gay. Perché ghettizzarsi lo fanno loro. A me non piace la cosa locale gay, giornale gay. Gay pride o gay pride o li detesto? Ah, ma come mai detesti gay pride? Perché non è bello. Troppe piume, diciamo. Ma siamo tutti uguali. Dobbiamo essere tutti uguali. Cosa andiamo a fare sul carro? Io la vorrei abbracciare. Cosa andiamo a fare sul carro? Faremo il Marchi Day. Che ti devo dire? Ma scusa, ma ho torto? Il Marchi Day. Allora, quando io... Tu ti presenti. Cosa fai? Dice? Pecere, Davide, Parenzo, Etero? Ma no, non c'è bisogno. Io non lo faccio. Tutti questi coming out. A me piace la fluidità. C'è uno che si definisce fluido. No, lo detesto. Lo butterei giù per il cesso. È fluido. Tiro l'acqua. No, no. Perché deve buttarlo giù per il cesso? Un fluido? Ma cosa vuol dire? Ma sarà un problema. Ma cosa vuol dire? Bisessuale. Ma prendi... No. Perché no? Nella vita bisogna avere una strada. Non puoi amare il mare e la montagna. Essere di destra e di sinistra. No. 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 Assolutamente sì. Anche psicanalisti sono della sua capitola. Anche psicologi. Siamo tutto. È il gesto di tutto. Dell'economia. Della storia. Però mi pare che abbiamo risposto a tutto. Sì, per carità. Molto bene, ragazzi. Grazie. Ci vediamo dopo al teatro. Vanno Marchi. Stefania Nobile. Due miti assoluti. Di antedosi. Io amo Cruciani. Grazie. E' buono. E' buono. Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'IRP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo IRP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industri 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'IRP più completo e intelligente su CentroSoftware.com. Centro Software. I migliori IRP per le imprese italiane. La tua famiglia, la tua casa, i tuoi cuccioli, la tua salute. In poche parole, tu adesso. Scegli Immagina adesso di Generali, un'unica polizza per proteggere tutto ciò che ami. Contatta i nostri agenti per avere fino a tre mesi in regalo. Iniziativa soggetta a limitazioni e valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Generali, partner di vita. Sogni un prato perfetto, senza sforzo. Ci pensa Ambrogio. Il robot rasa erba innovativo, ideale per qualsiasi giardino. Ambrogio è semplice da utilizzare, sicuro e made in Italy. Affidati al Maggiordomo del Verde dal cuore tecnologico. Scopri tutti i modelli su ambrogiorobot.com. Ambrogio è un prodotto ZCS, zucchetti centrosistemi. Scopri Unicredit e Smart Factor. Un luogo dove la libertà non ha confini. E il futuro è più vicino. Con Smart Factor, la piattaforma digitale di Unicredit Factoring, puoi richiedere l'anticipo di liquidità sui tuoi crediti in modo smart. Smart Factor. The Human Digital Factoring. Info su smartfactor.unicreditfactoring.it Messaggio pubblicitario. Foglie informativi su Unicredit Factoring e Unicredit.it Unicredit Factoring si riserva alla valutazione dei requisiti e del merito creditizio. Piccoli prezzi per ogni esigenza? Sconta su di noi! Perché Dark Planet c'è fino al 30% di sconto su tanti prodotti pensati per ogni fase della vita del tuo pet. E se hai appena adottato un piccolo amico a quattro zampe, iscriviti a Storie di Cuccioni. Avrai il 50% di sconto sulla prima pappa e il 20% su tutte le spese per tre mesi. Scopri il programma in store o chiedi al tuo pet specialist. Arca Planet. Pet Store. Pet Stories. Let's go! Tu hai delle mega idee. Da Medioworld ci sono i mega sconti. Dal 25 al 31 maggio approfitta delle migliori offerte sulla migliore tecnologia. Smartphone Samsung Galaxy A34 con il 20% di sconto a soli 375,99 euro. Medioworld. Let's go! Oh caro, che posto da favola la nostra casa! E che clima perfetto! Un bel clima si crea in due. I sistemi ibridi Wisman con pompa di calore e caldaia sono soluzioni intelligenti. Rinfrescano e riscaldano la tua casa scegliendo ogni volta la fonte più conveniente, gas o elettricità. Così risparmi in tutte le stagioni. Contatta l'installatore Wisman più vicino a te. Ti può consigliare la soluzione migliore per sfruttare i bonus fiscali con i nostri partner finanziari. Solo su Wisman.it In concorso al Festival di Cano. Suo figlio, Eligardo, è stato battezzato con l'ordine di prendere. Cosa? Dal regista di Il traditore e Sternonotte. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Rapito, un film di Marco Bellocchio. Questa è la tua famiglia adesso? Dal 25 maggio al cinema. Conosco Hunt da molti anni. Per me è come una grande famiglia perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Hunt vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000. Vai su Hunt.it e scopri come fare. Sono le 19. GR24 Il sole 24 ore Il taglio del cuneo fiscale sarà strutturale annuncia la premier Meloni al festival dell'economia di Trento e poi sull'Emilia-Romagna è una locomotiva non si deve fermare. Conti pubblici noi impegnati a ridurre il debito dice il ministro Giorgetti di crescita del PIL fino all'1,4%. PNRR pressing del fondo monetario Fonderlion dal piano 6 miliardi contro il dissesto. Ucraina timida apertura di Mosca al piano di pace del Vaticano il brasiliano Lula pronto a mediare con India e Cina missili intanto Sudnipro il Tarso spende l'abbattimento di due orsi in Trentino il governo autorizza l'uso dello spray al peperoncino per i forestali una buona serata dalla redazione DGR24 e da Vincenzo Miglietta politica economica ma non solo al festival dell'economia di Trento con il gruppo 24 ore partner dell'iniziativa negli interventi i temi di attualità l'alluvione in Emilia Romagna il PNRR l'ambiente i fenomeni migratori e poi il capitolo riforme a partire dalla giustizia oggi l'intervento della Presidente del Consiglio Meloni subito un pensiero alle zone alluvionate l'Emilia Romagna è una locomotiva in questa nazione e se si ferma noi non possiamo mantenere gli ottimi buoni parametri macroeconomici che l'Italia sta riscontrando in questo periodo molto difficile la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento spiega che al momento non è possibile una quantificazione chiara dei danni causati tra l'alluvione in Emilia Romagna e parla della risposta immediata arrivata dal governo col decreto da 2 miliardi allo stato d'emergenza la Premier ribadisce l'importanza della flessibilità sui fondi esistenti poi parla del taglio del cuneo fiscale che deve diventare strutturale io credo che sia molto più utile tagliare il cuneo contributivo e mettere più soldi in tasca ai lavoratori piuttosto del salario minimo legale sul MES il meccanismo europeo di stabilità interviene sempre da Trento Orgetti che dice non ricattiamo nessuno ci sarà una soluzione e sulla crescita dell'economia spiega abbiamo sempre avuto un approccio prudente io penso che diciamo così che un 1,2 1,4 è l'auspicio dopodiché io mi rendo conto che viviamo una realtà complessa Ligia Zancanera Radio 24 il sole 24 ore Trento sul piano nazionale di ripresa e resilienza c'è un dibattito un po' troppo isterico polemiche politiche anche surreali dice Raffaele Fitto ministro per gli affari europei le politiche di coesione il PNRR intervenendo al festival dell'economia di Trento non ci sono ritardi dice dopo un richiamo sui tempi del commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni col commissario Gentiloni noi ci sentiamo spesso c'è un ottimo clima di collaborazione noi abbiamo il termine regolamentare europeo che è quello del 31 di agosto il governo sta lavorando per completare quanto prima possibile questo lavoro solo 4 paesi al momento hanno completato questo lavoro e sul fronte riforme chieste dal PNRR interviene anche la ministra per le riforme e la semplificazione Elisabetta Casellati già abrogati 9.000 decreti saranno circa 20.000 per inizio estate tempi stretti anche per la riforma presidenziale io penso di presentare prima dell'estate un disegno di legge costituzionale che avrà pochissime modifiche e i fondi europei vanno in soccorso anche delle terre alluvionate dell'Emilia Romagna annuncia la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen da Venezia il Next Generation U dice prevede 6 miliardi di euro per l'Italia destinati a ridurre i rischi di inondazioni e frane Anna Marino Radio 24 il sole 24 ore Trento e il Fondo Monetario internazionale rivede a rialzo intanto le stime sul prodotto interno lordo italiano e indica la strada da percorrere attuazione del PNRR riduzione del debito pubblico nella giostra delle stime sulla crescita dove oggi più di ieri l'imprevisto e l'imprevedibile sono dietro l'angolo l'Italia stavolta migliora pur restando su incrementi moderati il Fondo Monetario internazionale ad aprile aveva indicato per l'Italia un PIL a più 0,7% nel 2023 e a più 0,8% nel 2024 adesso l'FMI vede una crescita dell'1,1% in entrambi gli anni inoltre è prevista un'accelerazione dal 2025 con il piano di ripresa e resilienza PNRR su cui il Fondo avvisa una completa e tempestiva implementazione è necessaria per aumentare produttività e potenziale di crescita e sostenerebbe l'Italia nelle sfide che la attendano dall'invecchiamento della popolazione ai cambiamenti climatici alla sicurezza energetica l'FMI consiglia poi un modello fiscale che incoraggi l'occupazione abolisca le spese fiscali inefficaci rafforzi la riscossione delle entrate e tuteli la progressività e ancora il capitolo legato all'elevato debito pubblico idrovo raspira risorse soprattutto in tempi di alti tassi di interesse per l'FMI serve un piano credibile di riduzione del debito Marco Mancini Radio 24 il sole 24 ore la cronaca con le zone alluvionate dell'Emilia Romagna non si ferma l'intervento sia pubblico che privato per riportare un minimo di normalità nelle zone colpite sullo sfondo anche il rischio sanitario sentiamo dopo il fango e l'acqua ora il problema in Romagna è di natura sanitaria a Conselice in provincia di Ravenna un'ordinanza comunale obbliga i cittadini a lasciare le proprie abitazioni non c'è una vera e propria emergenza ma la stagnazione dell'acqua rende comunque rischioso rimanere oltre che a Conselice anche a Solarolo gli abitanti si sono sottoposti alla vaccinazione antitetanica straordinaria domani toccherà invece ai cittadini di Sant'Agata sul Santerno un'altra ordinanza ma della regione stabilisce di ripristinare in tempi rapidi le reti di distribuzione di luce e acqua nei territori colpiti dall'alluvione sono saliti intanto a 8.000 gli interventi dei vigili del fuoco la maggior parte dei quali nel territorio delle Ravennate ancora 26.000 gli evacuati numero comunque in diminuzione e poco meno di 800 le strade ancora chiuse e dopo il concertone in programma il 5 agosto a Imola un altro appuntamento si aggiunge per raccogliere fondi e invitare a trascorrere le vacanze in Romagna il 24 giugno a Campovolo evento organizzato con il supporto del Ministero della Cultura Dario Ronzulli Radio 24 il sole 24 ore Bologna ed ora agli esteri l'Ucraina con la diplomazia che vede oggi dei segnali positivi ma i missili russi continuano a colpire anche i civili due persone morte almeno 30 feriti tra cui due bambini nell'attacco missilistico russo contro un ospedale nella città ucraina orientale di Dnipro i missili e i droni hanno colpito anche Kiev e le regioni di Kharkiv e di Dnipo Petrovsk dura la condanna europea il ministro degli esseri francese parla di violazione del diritto umano internazionale i bombardamenti russi si sarebbero intensificati nelle ultime settimane in vista di una prevista controffensiva ucraina intanto Stati Uniti Danimarca e Paesi Bassi inizieranno nelle prossime settimane a progettare un quadro di addestramento nella gestione degli aerei da combattimento F-16 promessi all'esercito ucraino va avanti anche il fronte diplomatico alla ricerca di una soluzione è necessario un vertice per la pace in Ucraina e il governo di Kiev è pronto a un summit che si tenga già a luglio ma la base deve essere il piano in dieci punti del presidente Zelensky dice il capo dell'ufficio di presidenza ucraina Yermak che pubblica su Telegram parte dell'intervista rilasciata all'agenzia di stampa russa Interfax Cristina Carpinelli Radio 24 il sole 24 ore siamo alla politica italiana il presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i presidenti delle Camere Larusse e Fontana un incontro definito di routine da quest'ultimo nel quale però Mattarella è tornato a sollecitare una soluzione all'annoso problema dell'utilizzo eccessivo dei decreti legge da parte dei governi un incontro di routine ha spiegato il presidente della Camera Lorenzo Fontana il giorno dopo il confronto con il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente del Senato Ignazio Larussa ma il capo dello Stato è tornato a sollecitare una soluzione al problema dell'uso eccessivo dei decreti legge da parte dei governi oltre i limiti fissati dalla Costituzione casi straordinari di necessità e urgenza Mattarella lo aveva già fatto con una lettera al Parlamento a fine febbraio nella quale ha anche sottolineato la cattiva prassi di inserire emendamenti estranei alla finalità originaria del decreto pratica anche questa bocciata dalla Corte Costituzionale per limitare i decreti legge bisogna velocizzare le leggi ordinari e l'obiettivo annunciato dalla Premier Meloni è condiviso dal Colle ma finora sta succedendo il contrario il governo Meloni ha battuto il record di decreti legge 26 in 6 mesi 4,2 decreti al mese calcola Open Police contro i 3,2 dei governi Draghi e Conte 2 Alessandro Arona Radio 24 il sole 24 ore Roma e domenica e lunedì si torna intanto a votare per le elezioni amministrative 41 i comuni per il secondo turno di ballottaggio e 167 quelli in Sicilia e Sardegna per il primo turno in tutto 3 milioni di elettori quinto forum economico franco italiano oggi a Roma dove è stata riaffermata la determinazione nel proseguire e rafforzare la collaborazione del Solco del Trattato del Quirinale e l'importanza di una politica industriale europea forte ed efficace ascoltiamo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi il quinto forum economico tra Italia e Francia tra Confindustria e Medef rappresenta ancora una volta l'importanza di due paesi che devono stare insieme che devono guidare l'Europa in un momento in cui le transizioni mettono a dura prova l'industria di tutto il continente cambiamo argomento torniamo alla cronaca l'uccisione degli orsi JJ4 ed MJ5 è stata sospesa dal TAR di Trento fino al 27 di giugno la vita degli orsi per ora è salva commenta la LAV si riconosce che i nostri atti sono motivati dice il presidente della provincia Fugatti nuovo stop all'abbattimento degli orsi JJ4 ed MJ5 il TAR di Trento ha infatti accolto la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4 ritenuta responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi e dell'orso MJ5 ritenuto aggressivo lo stop all'abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno termine ultimo per le parti per proporre motivi aggiuntivi mentre l'udienza di merito è stata fissata per il 14 dicembre la vita degli orsi per ora è salva scrive l'associazione animalista LAV le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e LAV a quanto si apprende depositerà l'approfondimento richiesto del progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro sostenendone interamente le spese la LAV ritiene che fino all'udienza di merito del 14 dicembre JJ4 ed MJ5 non possano essere uccisi Rosanna Magnano Radio 24 il sole 24 ore ed ora parliamo di libri perché stamattina sono stati scelti i finalisti del Campiello uno dei premi letterari più prestigiosi i confini fra letteratura e saggistica si attenuano e c'è sempre maggiore attenzione per la storia queste le caratteristiche della cinquina del premio Campiello scelta Padova in una seduta pubblica in cui ciascun esponente della giuria dei letterati ha espresso i propri voti trovando quasi subito una convergenza entrano così in finale La resistenza delle donne di Benedetta Tobagi e Naudi così come di Naudi e Cento milioni di Marta Cai c'è poi Diario di un'estate marziana di Tommaso Pincio Giulio Perrone Editore La Sibilla Vita di Joyce Lusso di Silvia Ballestra pubblicato dalla Terza e In cerca di panna di Filippo Tuena Nottetempo questi libri passano ora in mano a una giuria popolare di 300 lettori che decreterà il vincitore il 16 settembre a Venezia già identificato dalla giuria dei letterati il vincitore del Campiello Opera Prima e Emiliano Morreale con L'Ultima Innocenza pubblicato da Sellerio Alessandra Tedesco Radio 24 il Sole 24 Ore Padova In chiusura allo sport con il Giro d'Italia oggi le mitiche tre cime di Lavaredo 5400 metri di dislivello le tre cime che accarezzano il cielo ma alla fine ne viene fuori una tappetta che si decide con un paio di scatti all'ultimo chilometro e sul filo dei secondi come sempre ci sono due corse quelle per la tappa che la vince il 23enne colombiano Santiago Buitrago che precede il cananese Darek Ghi per la quarta volta a secondo e alle sue spalle il danese Magnus Kort l'altro giro è quello per la maglia rosa e la vince Primo Saroglic che arriva a quarto lo sloveno anticipa di tre secondi dicasi tre secondi la maglia rosa scalata finale di domani sul monte Lussare col gallese Geran Thomas in rose e lo sloveno Roglic a soli 26 secondi terza Almeida che si stacca ed è a 59 secondi quarto come detto il nostro Damiano Caruso che a 4 minuti e 11 secondi in un giro condizionato dal tempo domani uno a crono scalata lo deciderà per Gusto Stagi Radio 24 il sole 24 ore Rifugio Aronzo Ed è allora tutto per questa edizione curata e condotta da Vincenzo Miglietta in regia Roberta Frisani ora alla Zanzara le notizie tornano alle 21 in effetto notte GR24 il sole 24 ore direttore Fabio Tamburini Perché usare Ticket Restaurant? Ve lo spiego io per affettare le verdure come segnalibro per stappare le bottiglie Ma cosa fai Valerio? Fanne buon uso Hai ragione Ticket Restaurant aiuta aziende e liberi professionisti a risparmiare e lo usi ovunque anche per la spesa Fanne buon uso Scopri di più su Ticket Restaurant punto it Quattro cose da sapere su HumanGest Prendersi cura del talento? HumanGest lo fa da 20 anni ottimizzando i processi di selezione rendendoli smart veloci e performanti alla ricerca dei migliori professionisti disponibili sul mercato del lavoro sentiamo come con Mirella Castellani Director of Sales HumanGest I nostri servizi in ambito HR sono innovativi utilizziamo metodologie e strumenti all'avanguardia come software di recruiting digitale test di valutazione delle competenze a distanza e processi di assessment modellati sulla base di ciascun contesto aziendale tutto questo per esaminare a fondo i candidati e il motore della loro motivazione le potenzialità delle nuove tecnologie guidate dalle competenze dei nostri esperti sono elementi imprescindibili per rendere competitive le aziende in un mercato del lavoro sempre in costante trasformazione HumanGest la differenza è nel talento scopri tutti i servizi su HumanGest.it questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori la zanzara necrofili coppie scambiste neonazisti veteranazisti erotomani fascisti e comunisti reazionari filobutiniani antisemiti satanisti e non relax infogliati pornografi e baciapile camionisti truculenti gente che parla con gli ufo con le viscere degli abbacchi e con lo spirito santo dice e ce ne è continua a lungo eccoci di nuovo in diretta a Trento brava piazza Cesare Battisti nuovo ospite nuovo ospite già l'anno scorso no calma calma ragazzi vi voglio calmi non è un ospite vi voglio calmi devi stare calmo tu e deve stare calmo lui per il momento calmi no 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 come faccio a stare vicino a te puzzi non mi sposto sei odore hai un jeans che non ti lavi da tre mesi stai calmo sei ebro calma calma sei ebro sei eccitato no no calma calma ebro ebro per la strada e mi chiedono dottor Spottaglino ma mi saluti topogigio benissimo allora calma Enzo devi stare calmo qualcuno ti chiama personaggio inferiore ti devo ancora presentare di Padova non conti niente benissimo io l'hai detto se non avessi le raccomandazioni aspetta non puliresti neanche i cessi aspetta aspetta di Padova allora abbiamo con noi abbiamo con noi Enzo Spatalina un abbraccio un abbraccio no un abbraccio un abbraccio io e un applauso l'abbraccio arriva tutto il sudore e un applauso benissimo allora eh già lui è pulito si è pulito calma 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 perché non sei nella RAI di centrodestra Enzo questa è una bella domanda tu che sei un conduttore televisivo da tanti anni ormai perché ho l'abitudine di dire quello che penso siccome ultimamente ho preso le distanze dalla decisione di questo governo si capitanato da Giorgio Meloni e come mai per la guerra che tu sei filo Putin è certo io sono contro la guerra oh contro la guerra e lui che buono topo Gigio topo Gigio topo Gigio facciamo l'argomentare che classe che hai ma come argomentare ma hai uno stile inconfondibile ma perché lo fai parlare in geopolitica allora perché personaggio inferiore ma mica sei laureato vuoi parlare ma perché non ti sei laureato ma perché perché non ti sei laureato ma non sei Lucio Caracciolo perché non sei un cazzo non sei Lucio Caracciolo tu non sei niente va bene non sei un cazzo tutto rosso tutto rosso giù giù allora io Enzo però ti stavo chiedendo una cosa cosa non pagheresti per una laurea attento che cadi attento che cadi attento che cadi cosa non pagheresti per una laurea se ti fai male qua se ti fai male è grave se ti fai male è grave i tuoi padrini possono tanto ti tocca pagare ma non possono darti la laurea ti fai male se cadi attento Spacca la serie è troppo grosso è troppo grasso Enzo va bene l'abbiamo detto Aspetta che prendo 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 il tuo microfono questo qui ho in mano ho in mano quello che serve per pulire i gabinetti per pulire i gabinetti come si chiama il merdolino il merdolino il merdolino ti sta ancora aspettando tengo il merdolino Mauro di Mantova di Mantova da Mantova da Mantova Mauro da Mantova Mauro di Mantova da Mantova perché di Oda è la stessa cosa da vergogna di ti può dire anche di Mantova però fermiamoci Mauro ti aveva messo nel cesso da la faccia tua nel cesso allora Enzo ti devi capire un attimo lo so che no poverino anche perché se sta male respira male respira male tu però consideri Zeleschi come perché consideri Zeleschi così male è un attore un attore poi è un comico non vale niente detto da Spadalino un comico non vale niente è detto da Spadalino guarda me come fai a dire che non vale niente ma come posso io eh ah fallo girare si parlare bene di un tipo che sta facendo morire i suoi connazionali beh è stato in basso da quell'altro è stato in basso è però nel 2014 quando l'Ucraina ma è un eroe ha massacrato il Donbass lì nessuno ne ha parlato vero chissà perché la storia ha senso unico è questo in media adesso lui deve ringraziare ancora la Sette perché i suoi amici no non cittare la Sette Fazio sì la Subret l'intizzetto quello con le gambe che c'entra adesso Fazio l'intizzetto i suoi amici comunisti che c'entra che hanno fatto che dice comunisti che c'entra che hanno fatto che c'entra ma mere dalla Rai sì ho capito e tu e la Lucia annunziata eh che è successo un obbrobrio quando parlavo detto da lui uno obbrobrio detto da lui detto da lui a questa importanza detto da me a questa importanza ma ti metti conto però scusami Nati adesso a parte il vantaggio di questo governo che si comincia a fare un po' di pulizia beh questo è grave però quello che dici scusa per trent'anni cioè tu lo farei il programma al posto dell'annunziata lo farei sì sicuramente sì anziché mezz'ora mezza merda si chiama anziché mezz'ora mezza merda si chiama anziché mezz'ora io chiamerei te anzi sai come si chiama merda intera merda intera hanno allungato il programma hanno allungato il programma da mezz'ora a merda intera da mezza merda a merda intera da mezz'ora no io non metto addosso agli anziani io non meno gli anziani io non piccio gli anziani non piccio non posso non posso picchiare gli anziani non posso picchiare gli anziani sei un pezzo di merda non posso non posso non posso farti male non posso sei un pezzo di merda non posso non posso non posso non posso sei un pezzo di merda non posso farti male se non avessi i tuoi protettori non posso se tu non avessi i tuoi padrini non andresti neanche a pulire i cessi eccolo qua allora io voglio dire una cosa ma perché si rende così l'edicolo poverino ma mi dispiace ma perché si rende l'edicolo non ebreo sei ebro ti volevo far parlare di una cosa la questione del trans picchiato dalla polizia municipale il trans hai visto la cosa del trans picchiato dalla polizia municipale io ho dato la mia solidarietà a chi? agli agenti della polizia locale perché la storia l'hanno scritta le arresteranno è finita per la polizia locale sputato addosso agli agenti allora ti invito stasera ti mando un link che ti convincerà quello che è accaduto stanno arrivando stanno arrivando a prenderti stanno arrivando grazie piante d'oggi grazie ah no no questo è la sanità è l'ambulanza secondo te hanno fatto bene? e c'è ultimi minuti non c'è altra maniera esatto non c'è altra maniera non c'è altra maniera che aveva fatto quella signora trans Bruna a te osceni davanti ai bambini ma tu sei un attosceno tu sei un attosceno parla con me parla con me parla con me adesso ti chiamerò Topo Gigio Ebro il nuovo nome mi ha detto un ragazzo a tavola guarda la faccia delle persone Ebro guardale Ebro mi dispiace per te non posso infierire sei schietato guardale guardale ma io no aspetto un confronto sono quattro anni vergognati ma non mi posso confrontare con la raccolta differenziata non posso confrontarmi scusa Mianzo siamo calmi siamo calmi tu sei troppo agitato stasera che c'hai? ti sei agitato subito quando vedo questo Ebro non capisco più niente e appunto non hai capito più niente sei andato in paranoia voi il cuore e tu è un problema no io resisto resisto tranquillo ma non vorrei che ti succedesse qualcosa qui sarebbe un problema per tutti soprattutto per te mi sfogo tutti i giorni non ti preoccupare ho capito poi di fronte a un personaggio inferiore come lui infatti non può accadere non vale un cazzo non vale è la vergogna dei giornalai italiani qualcuno parla di sostituzione etnica qualcuno al governo sta avvenendo questa sostituzione etnica secondo te? fra un trent'anni eh secondo me l'Italia rischierà di scomparire ma no con questo andazzo lo dicono quelli di ultima degenerazione questo che l'Italia scomparirà però per altri motivi io non ho niente a che vedere con quelli di ultima generazione che andassero a lavorare attenzione sì bravissimo qui continuano ad arrivare stranieri ma meno male senza regolare ma meno male perché ti sostituiranno no non me ma perché che sostituzione si avrà tutti islamici saranno tutti islamici di colore fra islamici fra personaggi di colore fra balcani a me no a me no l'importante è che sia persona onesta prima al bar c'era un ragazzo di colore ho apprezzato come lavorava persona onesta io e quella gente che voglio non quelli che vengono in Italia perché tu chiami sacchetti a perdere sacchetti a perdere bravo sacchetti a perdere bravo dici tu lo dici lo dico io lo dico io però ecco qualche volta succede che si sposano c'è gente che gli manda i messaggi hai suggeritori hai suggeritori ma l'ho scritto quello sta male sta per morire ma l'ho scritto hai suggeritore ma l'ho scritto quello sta male quello sta male fammi vedere fammi vedere pezzo di merda no 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 calma però hai le mani sudate non vorrei che hai le mani sudate perché la sostituzione è tecnica secondo te perché che cosa sta succedendo cioè per esempio ci sono sempre più matrimoni misti matrimoni misti a te non piacciono i matrimoni misti giusto? due persone si vogliono bene d'accordo però tu dici il matrimonio tra un islamico e un italiano non può funzionare no è matematico ma come fai a dirlo prima o poi la donna si sveglia dal torpore eh che vuole fare? è troppo tardi ma è veramente un coglione in che senso scusa non l'ho capito la donna italiana ah si sveglia quando si sveglia e perché si innamora di un diciamo di un extra comunitario e troverà qualcosa di particolare il diverso il diverso però un po' più belli di te sono sicuramente sì un po' più belli di te ma infatti non c'è problema un po' più belli di te sono l'hanno scorzeri elegante facemi vedere lo scarpino sei un pezzente d'accordo ma perché perché tu dici che non può funzionare questo matrimonio è un po' sopra le ricche però no? sentimi ma è solare la distanzione apri un po' la porta perché c'è veramente cattivo odore scusa ci sono mentalità differente ma come fai a non capirlo? ma no dimmelo tu dimmelo non può funzionare tu dici il matrimonio non può funzionare al 99% non può funzionare un'altra educazione altri usi altre abitudini ma non ti vergogni di dire una cosa è pieno è pieno di famiglie è pieno di famiglie vergogna sai perché sei una persona schifosa perché stai insultando migliaia di famiglie su questo io non scherzo perché stai dicendo sei veramente una persona schifosa è pieno di bambini è pieno di bambini raccomandato di fare matrimonio misto fammi farlo vedere non deve aver paura l'altra sera sono stato io non metto le mani addosso di nessuno l'altra sera sono stato con Ferdinando Polegato è pieno ti saluta Ferdinando Polegato va bene va bene è pieno è pieno di coppie Ferdinando Polegato anch'io lo saluto molto ecco è saluto lei fai bene perché ma perché li chiami perché li chiami sa che ti ha perdere perché li chiami ma chi 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 non serve alla società quelli che vengono delinquere ma non si non si può dire gente che non serve alla società tu taglieresti le mani tu taglieresti anche le mani io sai cosa sto facendo io ma gliela do una sberla o no sai gliela do la novità gliela do una sberla no 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 dimmi che cosa dimmi che gliela do no 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 gliela do una sberla grazie grazie Enzo Spatalino gliela do di merda grazie 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 vai regia vai regia vai regia e allora definiamola dal 25 al 28 maggio dal 25 al 28 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario grazie al Trentino e al gruppo 24 ore il futuro del futuro le sfide di un mondo nuovo e il tema della diciottesima edizione oltre 260 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri Festival dell'Economia di Trento dal 25 al 28 maggio info su festivaleconomia.it si ringraziano i top partner Enel e Angelini Industries voglia di casa nuova? inizia dalle porte con l'operazione Porta il Pass puoi acquistare porte firmate GD Dorigo e DOR 2000 risparmiando fino al 40% vai su Porta il Pass.it gruppo G di Dorigo tutte le porte che puoi immaginare sono Massimo Doris nel mondo di oggi è importante non perdere il filo dei tuoi obiettivi insieme al tuo family banker puoi trovare le soluzioni giuste e per te non perdere il filo scegli Mediolanum presenta due amici che diventano clienti e scopri come avere un Samsung Galaxy Banca Mediolanum costruite intorno a te pubblicità operazione presenta un amico valida fino al 31 luglio regolamento e fogli informativi su BancaMediolanum.it da più di 40 anni li stendiamo tutti calzini, camice, tovaglie, lenzuola gli stand di biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze li trovi tutti sul sito FoppaPedretti.it funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy Foppa Pedretti l'albero delle idee Sì? C'è un problema con lo stoccaggio dei colli Ingegnere? L'audit per la sismo resistenza C'è una soluzione per gli scaffali Ah, e poi la cerca urgentemente il responsabile automazione Tenere tutto sotto controllo è sempre più difficile almeno la logistica falla facile Per la tua azienda affidati agli esperti del magazzino e dello stoccaggio intelligente Pretendi il top Scegli ModulBlock ModulBlock.com Puoi scegliere di guardare o scegliere Anti-Dollar Pro e tornare a giocare Non lasciare che i dolori osteoarticolari ti limitino nel lavoro e nel campo libero Prova Anti-Dollar Pro il nuovo dispositivo portatile per magnetoterapia di Amel Medical Anti-Dollar Pro è comodo da usare agisce già dopo 30 minuti e puoi provarlo gratuitamente chiamando l'880-20-40 Ripeto 880-20-40 Ci sto Provo Anti-Dollar Pro Dispositivo medico Cile leggere avvertenze e istruzioni pubblicità autorizzata Fineco è tempo di investire con noi vi presenta Burs in diretta Buonasera continua l'andamento positivo dei listini americani in questo momento il Dow Jones segna più 0,88 Standard & Poor's più 1,18 Nasdaq più 2,10 la schiarita sul debito americano ha risollevato anche le borse europee che hanno chiuso la settimana sull'onda dell'ottimismo Parigi più 1,24% Francoforte più 1,2 leggermente più Cauta Londra più 0,74 Milano più 1,16% a Piazza Affari tra i titoli principali ST più 3,89 Interpump più 2,76 Amplifon più 2,48 tra i peggiori Erg meno 0,61 Telecom meno 0,58 Intesa meno 0,27 è tutto Perché usare Ticket Restaurant? Ve lo spiego io Per affettare le verdure come segnalibro per stappare le bottiglie Ma cosa fai Valerio? Fanne buon uso Hai ragione Ticket Restaurant aiuta aziende e liberi professionisti a risparmiare e lo usi ovunque anche per la spesa Fanne buon uso Scopri di più su Ticket Restaurant punto it Colesterolo? Prova Colesterol Act Colesterol Act contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue Colesterol Act due mesi di integrazione a soli 19,90 euro acquistalo in farmacia e parafarmacia Una pecorella due pecorelle tre pecorelle Difficoltà nel prendere sonno Stress? Smetti di contare le pecore Conta su Melatonina e Valeriana Act Il buon sonno a soli 9,90 euro in farmacia e parafarmacia In InfoCert lo sappiamo bene Nel business come nello sport il successo è il risultato di dedizione costanza impegno di strategie e di risultati è con la passione e il lavoro di squadra che si diventa migliore Con GoSign firmi online ogni tipo di documento anche con Speed Vinci le sfide del business con l'app di firma scelta da oltre un milione e mezzo di utenti Attiva la ora su InfoCert.it InfoCert T-nexta Group Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti Vieni a incontrarti in Toscana rinascimento senza fine visit Tuscany.com Il Limiti fa crescere i tuoi risparmi non è un modo di dire ma di investire arrivano le nuove obbligazioni di Il Limiti dedicate anche a investitori retail con taglio minimo di 100.000 euro tasso fisso annuo lordo del 6,15% e scadenza a 3 anni BMP Paribas è il dealer delle missioni per maggiori informazioni visita il sito investimenti.bmpparibas.it e scegli il tuo intermediario distributore Il presente messaggio ha scopo meramente informativo e promozionale e non deve intendersi in alcun modo come ricerca, sollecitazione o raccomandazione all'investimento offerta al pubblico invito a offrire o consulenza in materia di investimenti Prima dell'investimento leggere attentamente la documentazione relativa all'offerta disponibile sul sito investimenti.bmpparibas.it Sono una nuova cedula Lady Sixty Con l'etel cance è tanto assimilabile e il suo sogno è trascurabile Le gran mossa per le tue ossa Acqualete ottima mossa per le tue ossa La Zanzara Stasera Che sera La Zanzara Crea l'atmosfera Al Festival dell'economia Lorenzo mio Quanta poesia La mano tua che scende un po' David Non so se si può Ma non si può Ma un pensiero Intrigante Si fa largo Nella mia mente Davide Già che sei lì Tittilla Milano Ma come si permette Schifoso Ma Tittilla lo piano Infila pure il dittino Come dentro un budino Dai che non è strano Ma estremamente Or su Tittilla Milano Ma Tittilla Milano Ma Tittilla Milano Ah piano E se un po' Ti disgusta Non ti preoccupare Me lo farò sbiancare Grazie Ruggero dei timidi Per questa intro Ad un nuovo Confronto Speriamo che sia più Leggermente più moderato Li chiama Confronti Chissà perché in Rai Questi confronti non li fanno Chissà come Beh no Invece cominciano a farli Anche in Rai Allora Ho sulla mia destra Ho qui a fianco a me Un personaggio Che è stato Un personaggio significativo Molto Di quest'anno della Zanzara Forse anche un anno e mezzo Un personaggio Che vive a Napoli Un personaggio Che è odiato Da molti italiani Che sono al nord Un po' molto discusso Diciamo Un personaggio molto discusso Divisivo Un percettore Del reddito di cittadinanza Colui che A un certo punto Che cosa ha fatto Si è Autonominato Sindacalista Dei percettori Del reddito di cittadinanza Ma non esiste Rappresentante Non esiste Dei percettori Del reddito di cittadinanza Ma non c'è CGL Cisla Will Pasquale Lino Romano A presidità A vita mia A gore A chi su gore Solo il Napoli Si sta Lo prima a morire Solo il Napoli Ti interessa Lui si scalda Solo con Napoli Allora Pasquale Lino Romano Buonasera 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 Gioventù Bella Pulita Fresca E tutta gente Che studia O che lavora E gente Che studia O che lavora Questa differenza tua Gente che studia O lavora Io non mi adatto Io combatto Io non Vieni a lavorare Il posto Nella monnezza Vieni a lavorare A Trento A Napoli E a Napoli Non me lo dai E allora Soffritemi Ma non è che ti soffriamo Ma non ti paghiamo Io faccio il monnezzaro Punto e basta Ma che Ti metto a sedere Se non mi fate fare il monnezzaro Io non posso pagare Né tasse Né vitalizzi Né vitalizzi Né tasse Il mio diritto acquisito Allora calma 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 Allora Pasquale Lino Romano Ha subito C'è una fatica Ma mi ha fatica Andiamo Calma 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 Ma rispettiamo i tempi Questa volta Allora Pasquale Lino Romano Fra poco Le sarà tolto Il re di cittadinanza Lui lo sa E certo che lo so E certo Come cazzo farà a campare Andrà a lavorare La miseria È il prezzo Che paga Chi è senza fantasia Quanti soldi Ha fottuto all'Italia Fino adesso Quanti soldi Ha fottuto all'Italia Come hai evitato Un pt A me No Come si permette Scusami Mi hai evitato Un pt A me Quanti soldi Si è fregato Io non ho mai fregato La legge La legge La legge La legge Quanti soldi Ha fatto il conto La Meloni È andata in Europa In Europa hanno aumentato Tutti i redditi Di cittadinanza Invece di farlo aumentare Al suo popolo Italiano L'ha fatta abolire Ma fratelli di chi? Fratelli d'Italia Scusi Lei vorrebbe Che aumentasse Ancora Le legge Di cittadinanza Che restasse Ma ragazzi Ma vi rendete conto? Questi vogliono Campare Il popolo Deve scialare Deve scialare Il popolo Non sempre I politici Dobbiamo Scialare Noi Ma è pazzesco E questa è la reazione Che poi non potete sentire Da fuori C'è qualche ambientale Scemo 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 Quando le sito Le sito Le sito Sempre può Mandri e voglio Scusi Non l'abbiamo capito Scusi Non l'abbiamo La traduzione La traduzione Mandri e voglio Che vuol dire Una mandria di voglia E questa è una radio nazionale Non è una radio locale È nazionale Quindi lei deve parlare in italiano In italiano In italiano Io parlo napoletano Amico mio Ci capiscono pure in Cina Allora scusi Solo tu non lo capisci Lei è Scusi un attimo Lei è però Addirittura a favore Della separazione dall'Italia Lei è a favore Del regno delle due Sicilie Allora Pensavo alla separazione Delle carriere Lei si sente più napoletano Che italiano Diciamo la verità Ma io sono napoletano È normale che sono napoletano Ma lei è italiano Ha parlato mare di Garibaldi Una volta Ma chi è questo Garibaldi Ma lo è stato Garibaldi Amici Ma come La Mussolina Amici Dovete togliere Garibaldi E chi li mille Morte fama Ma quei mille Mille hanno fatto L'Italia e mille Ma che ne fanno T'hanno fatto Sta grande cacà Lo smarco dei mille Una cosa incredibile ragazzi Allora Garibaldi È venuto a Napoli Ha fatto un patto di camorra Cotto di camorra Ma lei che cazzo È uno storico Ma tu che cazzo ne sai Ma quando passavano Quei mille Vado a trovare lavoro Invece di parlare Di Garibaldi Vado a trovare lavoro Ignorante Che non è altro Trova di lavoro Allora calma Lei sta rivisitando la storia Lei sta dicendo sostanzialmente Che il signor Garibaldi Ha fatto un patto di camorra Patto di camorra Con Salvatore De Crescenzo Con tutti Chi cazzo è Salvatore De Crescenzo È il capo in testa Della camorra Del 1861 Con tutti i capo in testa Della camorra Cosa pazzesca Con il questore di Napoli Dall'epoca Liberio romano Qui ci vuole La tarantella ragazzi Vai Solo a Napoli Un'immagine agghiacciante Ballano Non è mai agghiacciante Napoli Metti di giù Ti interessa solo il Napoli A questo qua Solo il Napoli Pasquale Lino Romano Se ti dicessero Che ti danno Un lavoro a tempo indeterminato A Napoli No aspetta Allora ascoltami Lavoro a tempo indeterminato O un nuovo scudetto del Napoli Allora io vi ho dato Scusami Giuseppe Scusate Io vi ho dato uno scoop Io vi sto dicendo Che a Napoli Si è fatto un concorso Dove la sinistra Il PT Ha fatto gli imbrogli Voi non lo volete sentire Non può dire Sta vergogna qua Un gesto Vi sto puttando i provi Vabbè allora Pasquale Qui Trento È una bellissima città Bellissima Lo possiamo dire Se sta bene Natura La raccolta differenziata Che funziona 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 Trento è una bella città Oggi abbiamo raccolto Una decina di proposte di lavoro Qui a Trento Pizzaiolo Aiuto in macelleria 1500 1600 euro a mese Tu puoi votare 5000 euro a mese È ora di fare il meridione Il settembre Lei sta prendendo I soldi dello Stato Da tre anni e mezzo Da quanti anni Quanto ha preso Fino adesso Facciamo un calcolo Quanto vi direte Di cittadinanza 600 euro Per 12 Faccia lei i conti Vuole fare i conti a me Sta dicendo Perché io guadagno Però si metta giù un attimo Comunque questa è la festa Dell'economia Che non Non l'ho mai vista La tessera Ma la faccia vedere Un secondo E tu ne hai poca vino Allora è una tessera gialla C'è scritto poste italiane Ovviamente Quindi ti viene ricaricata Ogni mese questa E tu vai a un bancomat Ma non ci vado nemmeno E vai a un bancomat A ritirare i soldi Non vado proprio a bancomat Quanti soldi ci sono qua sopra Questa tessera Non ci sono gli occhi per piangere La traduzione Scusi Di una mano Lei facendo un calcolo rapido 600 al mese per 12 Fa intorno ai 6.400 6.000 7.000 euro Quanto cazzo fa 600 per 12 Facciamo 7.200 7.200 7.200 3 anni 7 per 3 21 diciamo Più o meno Lei 30.000 euro allo Stato Gliela tolti 30.000 euro Che su 30.000 euro allo Stato Sto scherzando Allora io ho lavorato per 10 anni Ho pagato le tasse e i contributi Quanti si ha pagati a mio Stato Mio padre ha lavorato 45 anni E' morto E' morto 45 anni I contributi di mio padre Chi se li ha pagati Ma che c'entra I contributi di suo padre Ma questa è legge europea Voi volete stare in Europa E perché non rispettate la legge europea Se ti offrono un lavoro Tu lo devi prendere quel lavoro Lo devi prendere quel lavoro Assolutamente no Cioè a Trento A Trento ci sono pizzerie che offrono Che offrono Ma come non te ne fotte? Trento è una bellissima città Stai rifiutando il lavoro a Trento Ci vengono a fare un bel weekend a Trento Ma coi soldi di chi? Ma che te ne fotte i soldi di chi? Ai no sei incredibile Comunque mi ha scritto il dottor Cristiano Malacrino La mente di Pasquale Rino Romano E' in fase disintegrante Però scusami un attimo Pasquale Un'altra persona mi scrive Mi auguro che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi Prenda provvedimenti su Rino Romano Chi le se ne ha dai all'Italia? È un'importante No 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 Per carità Per carità Gio 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 Non ce ne frega niente Non è il sigla di Napoli Però scusi un attimo Lino Romano Lei si rende conto Perché la situazione è abbastanza incredibile La gente qui davanti Sicuramente ha problemi a trovare Adesso non so questi qua Molta gente per campare Insomma fa fatica e la gente fa e quando vi liberate voi stanno luando l'acqua e voi state zitti giù 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 un attimo ma quando vi liberate ma il popolo è zitto giù giù che popolo siete vi ribellate eh sì devi stare giù un attimo devi stare tranquillo ragazzi stasera sono tutti esaginari perché quando i mostri escono dalle gabbie alla fine sfugge il giocattolo il circo andate a lavorare il circo si sta ribellando andate a lavorare i pagliacci si stanno impossessando del circo questo sta accadendo il canto di lupare i scarpo no no fermati un attimo fermati allora il ragionamento è questo molta gente che sta qua detesta quello che dici per un motivo perché tu prendi ogni mese pochi soldi per carità aspetta stai calmo 600 tra i 600 e i 700 euro diciamo al mese e però di fronte a offerte di lavoro concrete che ti arrivano per rimetterti in gioco qui in una pizzeria di Trento qui in un'industria trentina e qui nei grandi posti dove l'imprenditoria trentina grandi posti stanno arrivando a bere che c'è il ristorante fanno i 100 mila persone qua capico condominio mi fa 100 mila persone se si fa a candidare l'amministratore per forza Napoli perché per forza Napoli sono napoletana perché cazzo sto sempre non messo ma calma però scusami allora io voglio dire una cosa a questo popolo no no non vuoi dire niente allora io sono pronto a riduciare al reddito di cittadinanza meno male se i politici riduciano al loro vitalizio ma perché se i politici riduciano ma è la loro pensione ma è la loro pensione è il loro lavoro vai giù un attimo vai giù un attimo regia musica vitalizio per sempre vitalizio per sempre eccolo qua mamma mia tutta l'Europa tutta l'Europa lo prende il vital lo prende il reddito di cittadinanza calma devi stare calmo un attimo allora abbiamo con noi un imprenditore italiano che fa il gelato si chiama Gianluca Brambilla buonasera 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 qual è il suo giudizio dopo faremo tutto qual è il suo giudizio offri gli lavoro scusa scusa offri gli un posto di lavoro ha detto che mi assume lui allora si mi ha detto di andare a Posilipo di sponsorizzare una gelateria lui fa il direttore io do la fare il gelato è un genio sei un genio sei allora caro Brambilla perché a Napoli c'è questo tipo di atteggiamento spiegamelo tu non è Napoli perché tu più volte l'hai detto a Napoli è in campagna dove si percepisce un reddito di cittadinanza la maggior parte delle persone come ragione Lino cioè Lino antropologicamente ha ragione in modo diverso come antropologicamente antropologia culturale ti prego Brambilla tradizioni modo di pensare ti prego vedi i ragazzi di Trento che gli hanno dato dello scemo no? perché gli hanno dato dello scemo perché vedono le cose in modo diverso Lino non si adatta a niente Lino dice io ho diritto di fare quello che voglio quello che ci ho fatto quello che ci ho fatto per dire meglio allora Lino perché scusa fammi capire 15 contratti a testo si viene assunto a tempi indeterminati perché devono mettere raccomandati che io mi devo adattare ma tu hai mitato a panna a capo che è quello che ti è successo a te succede a milioni di persone in Italia perché non ve li parlano perché tutti dobbiamo adattarci tutti dobbiamo far fatica il nostro paese ci propone questo ci offre questo e noi dobbiamo starci dentro comunque si assomigliano un po' anche fisicamente di persone che sono antropologicamente diverse cosa intendi? la cultura del non fare la cultura del non lavoro la cultura del fancazzismo cosa pensi? assolutamente è così è così è così perché se tu vivi in un contesto come questo come quello di Trento dove la gente qui vuole intraprendere guarda questa città è puritissima non c'è una un ammuccio di sigaretta per terra non c'è una carta è tutto che funziona tutte le macchine parcheggiate in ordine in ordine poi ragione quella è una questione solo di soldi perché la provincia di Trento è autonoma no non c'entra niente è un problema anche di cultura delle persone di mentalità delle persone tu le persone se non c'hanno la mentalità puoi dargli tutti i soldi che vuoi ma alla fine fanno i barboni lo stesso lui mi parla di cultura cioè chi ce l'ha dare no? non sai che la forchetta l'abbiamo inventata noi la forchetta la prima università il primo pergo dei poveri il primo teatro al mondo vai vita vai vita mia vai vita mia vai c'è proprio inventato tutto ma che tipo strazio tutte le ore vai a lavorare vai giù vai giù vai giù vai a lavorare ho lavorato anche oggi Lino guarda qua sono venuto ho portato il gelato ho portato le divise è tutta pubblicità è tutta pubblicità gratis chiamami scusami scusami un attimo scusami un attimo scusami un attimo Gianluca scusami un attimo allora tu fai per i poveri gelatieri emiliani che sono nella merda allora posso dirti una cosa tu consideri il sud qualcosa di negativo per l'Italia diciamo la verità si diciamola tu si spaccamo spaccamo di diverso dal nord non è necessariamente tutto negativo ci sono dei comportamenti degli atteggiamenti dei modi di fare di ragionare dei meridionali che basano tutto sul potere mentre noi basiamo tutto sulla seduzione ma è uno stereotipo è una stupidacchile l'Italia è stata meridionalizzata pareggio i meridionali hanno occupato tutta la pubblica amministrazione i meridionali sono immigrati dal suo verso non e hanno portato i loro valori alcuni condivisi ma lo diceva la lega 30 anni fa sta cazzata 30 anni fa non è questione di 30 anni è più attuale ancora adesso ma leggi Sergio Rizzo potere assoluto vai a vedere i 100 nomi dei magistrati che scrive Sergio Rizzo nel suo libro 98 sono meridionali sono da Roma in giù che è una persona autorevole ma certamente proprio per quella che te la cito Parenzo vai a leggere i nomi io sono andato a leggere i nomi dei 100 magistrati citati da Sergio Rizzo e quindi questo vuol dire hanno vinto un concorso hanno vinto un concorso non fanno sto cazzo di gelato come si chiama il gelato che cosa agli ultrassuoni agli ultrassuoni agli ultrassuoni agli ultrassuoni Parenzo che cazzo è il gelato noi al nord ci occupiamo di tecnologia di ultrassuoni e facciamo pure il gelato il gelato agli ultrassuoni il gelato il cioccolato il gelato agli ultrassuoni questa è la giacca elegante metti su il gelato agli ultrassuoni ma è pazzesca che cos'è il gelato agli ultrassuoni è un processo è un processo fammi sentire dato che noi italiani siamo bravi con le tecnologie soprattutto nel nord Italia con anche ingegneri meridionali che arrivano dall'università di Napoli il gelato agli ultrassuoni usiamo delle tecnologie questa tecnologia prova se aggia il gelato agli ultrassuoni e diventa più buono il gelato non c'è un cazzo lo sto messo vicino all'orecchio dove sono gli ultrassuoni? non c'è niente un gelato al cioccolato te lo posso garantire che vuol dire gelato agli ultrassuoni? vuol dire che è stato processato con gli ultrassuoni? ma processato da chi? la macchia è stata processata non il tuo cazzo di gelato bastia processo di produzione asino grazie grazie agli ultrassuoni pensi di aver fatto una genialità capito? il gelato agli ultrassuoni sì sì e non neanche io purtroppo non posso neanche dire che sei stato il primo pensa cecchietta ancora più brava di me porca miseria ma perché tu non vai a investire al sud? hai paura? ho paura perché di che hai avuto? paura di cosa? perché l'esperienza della famiglia arriva a Taranto l'esperienza di Sergio Bramini a Siracusa l'esperienza di molti piccoli ho paura dei meridionali ma come hai paura dei meridionali? hai paura dei meridionali? ma come fai a avere ma lui non è in meridione come no? lui è qua è diverso capisci? cioè lui è arrivato qua si è integrato qui ha avuto le possibilità di diventare quello che diventava di Edoardo De Filippo hai paura di De Crescenzo di De Filippo hai paura ho paura dei mafiosi ho paura dei camboglisti i mafiosi sono anche a Milano anche al nord no no ascolta Parencio mamma mia non sono nordici noi sappiamo sono meridionali al nord non c'è nessun mafioso che si chiama Colombo Brambillo o Meroni bestia tu hai mai sentito un mafioso che si chiama Brambilla difficile quello che ti posso tirare stai dicendo stai dicendo una cosa chiamalo Vanna Marchi che vendiamo il toccato di gerato chiamalo Vanna Marchi che lo vendiamo ragazzi la pensate come me ragazzi la pensate come me sulle maniche la pensate come me sulle maniche sulle maniche abbiate coraggio smettiamo di avere paura dei meridionali ma non c'è ma nessuno ha paura dei meridionali ma nessuno ha paura dei meridionali basta avere paura ma nessuno ha paura dei meridionali calma 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 un'altra meridionale un'altra meridionale un'altra meridionale di regia non è il signor Lacorte che è palermitano però una pugliese ti ho mandato il messaggio però la realtà è questa tu hai detto una cosa gravissima prima hai detto una cosa molto molto hai paura dei meridionali dei camorristi dei mafiosi degli atteggiamenti di potere degli finanziari che sono entrati a casa mia l'atteggiamento che hanno avuto mi hanno anche arrestato hai capito? poi mi ha chiesto scuso ma che c'entrano i meridionali? ma che c'entrano i meridionali? è l'atteggiamento, la mentalità ti hanno arrestato i meridionali? ma tu sei pazzo mi hanno arrestato la cultura meridionale mi ha arrestato la cultura di potere meridionale ma mandalo a quel paese lo diceva per i meridionali più abbastanti tu hai letto libro cuore tu hai letto libro cuore vai concludi tu concludi tu ti prego è sconvolto anche Ruggero concludi tu Ruggero vai un minuto grazie ringrazio tutti per l'onestà intellettuale ti ringrazio tutti vai 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 Ruggero vai è la storia di una ragazza come ce ne sono tante che nella vita vuole un'emozione elettrizzante ma questa società è sul loro del precipizio mette al bando un innocente se si toglie qualche sfizio ti rinnegherà tua mamma dove dopo vedi più dare scandalo nel mondo fare piangere Gesù perché si sa una principessa gioco col principe mai da sola però tu te ne sbatti e canti a squarciagola vibratore, vibratore vibra non ti fermare vibratore, vibratore vibra non ti fermare poche pile nel cassetto ho troppi sogni da realizzare se la noia galoppa ti viene incontro la tecnologia se la carne scarseggia c'è la salsiccia di cortesia no si può grazie Ruggero Redimidi a fra poco ma non si può neanche ringraziare sono le 2.50 è ora di svegliarsi risveglia il tuo conto corrente con Illimiti hai il 2,50% sulla liquidità finalmente la giacenza del conto corrente è libera di crescere apri il conto premium vai su IllimitiBank.com messaggio pubblicitario con finalità promozionale condizioni promozionali valide per richieste di apertura conto completate entro il 29 giugno 2023 per maggiori dettagli consulta il foglio informativo su IllimitiBank.com slash trasparenza ciao come si chiama il tuo programma per la gestione digitale delle informazioni? Arxivar in azienda dobbiamo archiviare i dati direttamente dal nostro gestionale Arxivar lo fa e gestire i processi di approvazione Arxivar lo fa eppure bene e firmare digitalmente i documenti con il cellulare ma certo guarda fai prima googla Arxivar e scopri quanti problemi ti risolve Arxivar la soluzione per la gestione digitale delle informazioni della tua azienda e ora passiamo a alto Serena per quanto se tu senti il testo non siamo fine dai ascolto a chi parla chiaro con Audi Service hai sempre costi trasparenti e manutenzione di alta qualità su tutto il territorio nazionale visita la pagina prezzi chiari su Audi.it e scopri gli interventi di manutenzione con tariffe dedicate presso tutti i service partner Audi offerte valide fino al 30 giugno esiste un modo per fermare il tempo? sono il dottor Massimo Gualerzi cardiologo e fondatore di The Longevity Suite il più evoluto network europeo di Anti-Age City Clinic qual è il segreto di una sana longevità? freddo detox e consapevolezza per diventare la miglior versione di te stesso grazie a un perfetto equilibrio tra salute bellezza ed energia mentale congela il tempo live more beautiful entra in The Longevity Suite tesoro è pronta la cena di ieri sono due giorni che sei al computer sì scusa sto cercando un notebook e passo da un sito all'altro non cercare tanti siti ma tanti rivenditori in un unico sito ricondizionato.it ricondizionato.it è il marketplace ecosostenibile dove ogni prodotto conserva all'aspetto le prestazioni del nuovo ma non il prezzo ma è una scelta sicura? sicura per chi compra sicura per chi vende sicura per il portafogli e sicura il pianeta ricondizionato.it economico ecologico e garantito sono Vincenzo Francese a Didi Axerta sono qui per dire grazie grazie a tutte le aziende che da 60 anni ci affidano la difesa dei loro diritti Axerta indaga documenta accerta axerta.it maestro vorrei liberarmi dalla schiavitù delle cose bravo ma come fare? esempio dame i tuoi occhiali ecco grazie belli occhiali molto belli pure buoni ciao maestro dove va? i miei occhiali maestro gli occhiali contatta piacciono a tutti uniscono bellezza e qualità delle lenti prova in farmacia e scopri il prezzo incredibile contatta benessere degli occhi in farmacia è un dispositivo medico CE leggere attentamente le avvertenze Outmin Sun 5 cose da sapere su Citroen Jumpy oggi parliamo di Citroen e Jumpy il veicolo commerciale perfetto per ogni esigenza che si inserisce nella gamma di veicoli elettrici più ampia del mercato funzionale pratico ed ergonomico disponibile in due potenze di batteria sentiamo Salvatore Cardile direttore marketing veicoli commerciali diciamo subito che e Jumpy offre caratteristiche di carico eccezionali questo grazie alla posizione della batteria collocata sotto il pianale del veicolo due le possibilità in termini di autonomia con batterie da 50 o 75 kWh per garantire una percorrenza fino a 330 km in ciclo VLTP il cambio automatico dispone anche della modalità brake per recuperare più energia durante le fasi di frenata e offre tre differenti settaggi di guida per una scelta di prestazione personalizzata e adatta ad ogni situazione scopri Jumpy ed e Jumpy su business.citroen.it questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori la zanzara io sono passato a Gesù alla vita io sono passato alla verità alla verità di Cristo che vale più di un milione di donne Cristo è l'unica cosa che può riempire il cuore dell'uomo che può perdonare i peccati e dare la vita eterna se ci fai caso guarda anche come si vestono le vestiti amici guarda come si vestono sai ma mi conosco lo riconosce dai vestiti ma tu ti devi curare veramente la chiamata che non hai ricevuto non è dal Signore è dal 118 quella è la chiamata che devi ricevere tu perché siete un esempio negativo siete negativi proprio non vi dovrebbero far parlare alla radio veramente una volta venivano messe persone educate persone che parlavano bene anche persone colte cioè guarda cosa va andata in onda cioè è vergognoso perché tu sei pagato dipendiato da quel giornale satanico per dire questo che è il giornale di vergognare se è un dipendente è male io non ti ho creato gay prego per te che ti ravvedi Davide Lorenzo io non ti ho creato gay allora ragazzi alle 20 in punto salutando di nuovo Trento grazie Trento grazie di essere rimasti qui ragazzi grazie è arrivata intanto anche la polizia camionette è arrivata un'ambulanza gli ospiti che sono arrivati qui finora sono stati tutti portati via come mai ogni ospite è stato preso prelevato e portato in una struttura sanitaria protetta avete sentito la voce di un signore che è qui che è stato spesso ospite di questa tradizione per la prima volta live è stato anche a Roma in realtà io vorrei un applauso per un ragazzo lo chiamo ragazzo anche se ha i suoi anni un ragazzo che ha pubblicato un libro che in questo momento viene anche un po' boicottato ha scritto un libro io non ti ho creato gay Alessio Lizio applauso applauso buonasera dottor Lizio buonasera come pace è successo il disastro fino a ora dice pace è successo un casino dietro l'altro dice pace quando lei dice io non ti ho creato gay lei come si definisce innanzitutto un predicatore uno che come si definisce si definisca un figlio di Dio un figlio di Dio io invece prima se io ho conosciuto un sacco di figli di però scusi un attimo lei si definisce un figlio di Dio ma da chi come campa lei durante la giornata questo è importante che lavoro fa io insegno insegno a chi ma è dove la scuola elementare non sono un insegnante privato ah un insegnante privato va a casa delle persone esatto e ogni tanto gli dice convertiti pentiti queste cose qua anche benissimo c'è gente che paga per avere questo a casa capito questo per dire poi ti stupisci lei una volta mi ha detto lei è diciamo in qualche modo viene mantenuto da Dio cioè sì Dio provvede dai suoi figli quello di cui hanno bisogno ma no capito io se non vado a lavorare a Radio 24 giustamente non è che Dio provvede l'azienda giustamente dice non sei venuto non ti paghiamo io ti posso testimoniare che fino a oggi fino a oggi Dio mi ha aiutato penso anche la gente qui che ci ascolta può dire che è in periodo di difficoltà grazie a Dio siamo qua perché è anche grazie a Dio che noi possiamo svegliarci possiamo andare a lavorare una grazia del Signore c'è chi non lo può fare per chi crede naturalmente c'è anche gente che non crede in realtà Dio mostra la sua grazia a tutti affinché la gente si converta ma che si converta ma c'è gente che non si vuole convertire io penso che sono ateo come peggio io sto benissimo però essere nella mia nel mio essere ateo ma tu puoi stare bene c'è chi fa il male e sta bene a fare il male ma questo non significa che il tuo male non sarà giudicato lui fa il male sì anche secondo me sono le scelte di vita lei è sicuro che io pagherò me lo sta dicendo guardandomi negli occhi lo dice la Bibbia che è la parola di Dio no non lo dice la Bibbia lo dirà l'azienda questa qui lo dirà no la Bibbia questa azienda qui a un certo punto dirà questa trasmissione non si può più fare ma non è che l'ha detto Dio l'ha detto giustamente questa azienda però scusi perché io sarei un peccatore o comunque qualcuno semplicemente perché non credo sono tutti peccatori e privi della gloria di Dio ma quello che ha fatto Cristo sulla croce è pagare per i nostri peccati vi fa ridere ma è una grande verità la deboche il degrado che vedete nella società italiana ma in tutto il mondo è proprio dovuto al fatto che l'Italia il mondo rinnega Cristo e i comandamenti di Dio cioè per esempio che società è questa qua una società degradata lo dice anche il pastore Kirill lei la conosce Kirill quello russo l'amichetto di Putin lei non è lontano dalle posizioni di Putin lei apprezza quel mondo lì non gli interessa no però quel mondo lì che dice che l'Occidente non gli interessa di Putin un signore ha invaso l'Ucraina arriva a dice non mi interessa tutto il mondo giace sotto il potere del maligno non esistono paesi dove non ci siano le carceri questo perché in tutto il mondo esiste il peccato per forza per me è evidente ovvio che c'è carceri quindi aspettiamo esatto dove lo metti un mafioso ti sto dicendo proprio questo non c'è paese dove non ci sia il peccato la Russia non è un paradiso ma non è il peccato la Russia ha i suoi peccati si chiamano reati non peccati non capisci però lei non riconosce che sei ottenebrato sono sì molto no mi girano i coglioni non è che sono ottenebrato mi girano le balle perché sono alle 8 e dalle 6 e mezza che sono qui vedo passare i mostri e non sono ottenebrato mi girano i coglioni però scusi Vizio lei ha scritto un libro che è io non ti ho creato gay storia di un ex omosessuale esatto perché lei era gay diciamo la verità e lei era gay o no? eh certo diciamo la verità da 10 anni lo testimonio no giù lei era gay possiamo dirlo lei ha avuto anche rapporti omosessuali esatto ha avuto dei compagni ha avuto delle storie più o meno lunghe ma anche sessualmente ha avuto dei rapporti sessuali bellissimo ma è viva è viva no io dico è viva perché a un certo punto è impazzito cioè perché è impazzito o comunque secondo alcuni è impazzito io cercavo Dio io cercavo Dio non riuscivo a capire perché se volevo conoscere Cristo rimanevo in quella condizione poiché la Bibbia dice che gli omosessuali non entreranno nel regno di Dio dunque gli omosessuali cosa sono per lei? dei peccatori? esattamente come i fornicatori come gli ubriaconi come i ladri come gli assassini esatto tutti sono peccatori ma non è la stessa cosa la Bibbia li mette tutti in questa categoria affinché nessuno si vanti davanti a Dio tutti sono peccatori ma come lo fa a dire ma qui ci saranno scusi scusi Lizio però qui davanti a noi per un motivo statistico abbastanza semplice qui davanti a noi ci sono non so qualche centinaia di persone il 10% saranno gay ma non me ne frega niente no certo ma si rivolga a questi qua che cosa dice a questi io dico questo te lo stavo dicendo quanti sono gli omosessuali in questa piazza l'alzate le mani ma che fanno l'alzate le mani ecco ce n'è una là che lei spica ce n'è altri ce ne sono non lo dicono ecco uno là è omosessuale io gli voglio dire ce n'è uno là lei è gay io gli voglio dire che c'è speranza per voi più della metà dei miei amici e nel mio libro riporto anche dei dati ma magari stanno bene ci sono dei dati di psicologia dell'omosessualità secondo voi più della metà degli omosessuali è stato vittima di pedofilia ma che dici ma si vergogna ma è la verità è una schifetta è una schifetta non è la verità è una stronzata e sono gli stessi libri che sono stati censurati Trento si ribella Trento si ribella Trento si ribella Trento alza la voce Elizio ti prendono a calcio del sedere amico mio io ti rispetto tu vivi di approvazione di consensi no di approvazione io vivo del 27 del mese se questa piazza fosse stata vuota quando arriva il bonifico amico mio questa sera saresti andato alla Caritas di Trento a mangiare quindi invece io dipendo dalla grazia di Dio non da un pubblico a me non interessa che io sia celebrato da un pubblico tu invece sia io vado a lavorare quindi io stavo raccontando quello che è successo anche tu sei celebrato dal tuo datore di lavoro Gesù Cristo risorto un giorno mi ha parlato ma chi ti ha parlato? ascoltami Gesù Cristo mi ha parlato e mi ha detto io non ti ho creato gay quando io mi sono messo in ginocchio a casa mia e ho chiesto perdono al padre nel nome di Gesù Cristo il messia il salvatore del mondo io sono stato liberato da questa condizione non solo io ma migliaia di ex gay gli stessi ex gay che testimoniano su facebook dello stesso facebook che censura e blocca le loro pagine scusi un attimo lei sta dicendo che si può guarire siamo tantissimi che si può guarire dall'omosessualità Gesù Cristo guarisce i cuori ma non è possibile una cosa lo può fare ma ci sono una marea di gay felici felici felicissimi io conosco anche i boss mafiosi felici ma lei è pariso non significa che facciano la cosa giusta il parametro di ciò che è giusto lei è una persona violenta lei usa parole violente io lo posso dire il parametro di ciò che è morale giusto non è la nostra felicità ma è la legge di Dio lei è la legge di Dio ci sono anche paesi lei è un minchione esistono anche paesi in cui la pedofilia è legale non vuol dire che sia giusta rimane sbagliata nonostante la legge italiana muti e cambi l'omosessualità rimane un'abominazione e io sono la testimonianza io come tante persone che Cristo Gesù libera dal peccato e anche dall'omosessualità però scusi oggi no ma quello che c'entra non c'entra niente Barisoni gay è fieramente eterosessuale ma certo è fieramente eterosessuale però posso dire una cosa caro Lizio io ho grande rispetto come sa per le sue posizioni lei vuole fare una preghiera per liberare gli omosessuali che sono in piazza perché no? perché loro se vogliono cercare Dio vogliono cambiare vogliono chiedere perdono possono farlo da soli non hanno bisogno di un'intercessione ma lei che cosa consiglia? la Chiesa Cattolica vi ha insegnato l'intercessione dei Santi o la confessione che non è scritta nella Bibbia invece la Bibbia dice che chiunque va a Cristo e lo invoca viene salvato e liberato quindi pregate per i fatti vostri lei cosa consiglia? io consiglio la preghiera? di ravvedervi di chiedere perdono a Dio e di confessare di Cristo come Signore perché il Signore Gesù sta tornando e giudicherà le nazioni ma chiunque crede in lui non sarà giudicato ma sarà passato dalla morte alla vita questo è il Vangelo perché sta tornando? lei dice che siamo vicini all'Apocalisse perché siamo vicini all'Apocalisse? perché la Bibbia dice questo alla fine dei tempi l'iniquità aumenterà e l'amore si raffredderà cioè il mondo sta per finire? esatto ma non è così lo dicono quelli di nuova degenerazione lo dicono lo dicono quelli di nuova degenerazione guarda voi schernite ma io so che Dio in questo momento sta parlando e sta confermando tante cose a tante persone perché voi dite cose banali che piacciono alla gente Cristo Gesù è stato crocifisso per aver detto io sono il figlio di Dio e per aver detto una verità scomoda io sono il figlio di Dio che morirò sulla croce per i vostri peccati per questo l'hanno crocifisso per questo Parenzo l'odia perché non si vuole ravvedere ma tutt'altro e vuole continuare a vivere nei suoi peccati ma io non odio nessuno amante e idolatra come dei soldi e del tenore sono di un'altra azienda anche lei tutte le mattine si dovrebbe alzare e dovrebbe andare a lavorare tutto qua è finito poi dopo faccia quello che vuole torna non torna arriva lei considera gli omosessuali dei malati? no allora la parola malattia significa un male l'omosessualità è un male dell'anima ma non può dire un male dell'anima io te lo confermo io te lo confermo aspetta tanti omosessuali qui presenti sono cresciuti senza una delle figure genitoriali ma che ne sai in famiglie disfunzionali molti di loro sono stati abusati non è vero sono tutti complessi di inferiorità ma è falso Gesù Cristo è venuto a fasciare i cuori rotti io ve lo testimonio perché conosco migliaia di omosessuali che sono anche stati liberati liberati da Gesù Cristo voi conoscete il gay pride che ripeto è la maschera è la maschera dell'infelicità degli omosessuali scusi il demonio dove è oggi dove si annida il demonio per esempio faccio un esempio con Casale il governo Meloni Gesù il governo Meloni c'è il demonio Gesù chiamava tutti coloro che non credevano in lui e che volevano ucciderlo voi siete figli del diavolo il diavolo è vostro padre prima di conoscere Cristo ero un figlio del diavolo perché io facevo la volontà non ero figlio del diavolo lei era omosessuale le piaceva farselo mettere in quel posto io facevo la volontà del diavolo io facevo la volontà del diavolo ma ringrazio Dio che oggi ho fatto un'esperienza che ha cambiato la mia vita perché ancora voi vivete dei piaceri carnali e mondani come le bestie non c'è nessuna differenza io invece ho scoperto che sono un figlio di Dio non vivo più secondo gli istinti come gli animali ma vivo secondo la legge spirituale di Dio non perché io sono bravo ma perché mi sono umiliato davanti a Dio gli ho chiesto perdono e Dio ha cambiato il mio cuore però scusi Rizio una domanda lei dunque da quando ha lasciato l'omosessualità diciamo per volontà di Dio dunque quanti anni sono passati nove anni da nove anni non ha più rapporto sessuale no da nove anni non ha più rapporto sessuale ma questo chi se ne frega era scelto su ma per dire questa è un'informazione interessante da capire ma perché perché naturalmente lei considera il rapporto sessuale non lo considero io lo considera la Bibbia no ma si d'accordo la Bibbia è chiara ma nemmeno la masturbazione nemmeno la masturbazione c'è uno dei dieci comandamenti che dice non commetterai adulterio esatto quindi non esiste la legge di Dio rapporto fuori dal matrimonio e tu vedi ma anche la masturbazione è compresa o no e io conosco tante ragazze giovani che si sono date a tanti uomini poverine poverine ma meno male che sono divertite l'immagine che il femminismo ha creato della donna che è diventata carne in vendita ragazze vuote tristi che si danno al primo che passa questa è la conseguenza di un mondo senza Dio esatto perché tu sei un pervertito sì sono un pervertito è vero e tu usi la donna come un oggetto tu usi una donna come un oggetto invece per la Bibbia la donna è preziosa è preziosissima una donna deve essere amata e sposata esattamente il contrario di quello che fa il mondo uno può anche non sposarsi direttore ma questo lo dici tu perché sei un ipocrita chi ama chi ama una donna veramente chi ama una donna veramente senza vergogna proclama davanti alla società ma se anche lei non vuole due persone stanno insieme non si sposano lei e la mia donna io l'amo e io giuro non c'è problema c'è una cosa in più nel matrimonio Parenzo che si dice finché morte non ci si parli ma vediamo voi possono capitare mille cose nella vita delle persone io parlo qui con le ragazze quale ragazze ci sono delle ragazze lo sai esatto non hai solo un pubblico di maschi no per fortuna quindi vi dico un uomo un uomo che non ha il coraggio di sposarvi è un uomo che non vi ama ma non è vero ma anche loro non si vogliono sposare fanno il cazzo che vogliono perché sono estremamente ferite e ormai elemosinano amore e relazioni sessuali allora Alizio io voglio chiedere ci sono arrese anche loro chi pratica l'aborto i medici come li considera lei chiunque pratica l'aborto è un assassino anche il complice certo uccidere un bambino è omicidio ma siamo nel 2023 uccidere un bambino nel 2023 è omicidio ucciderlo nel 100 dopo Cristo nel 500 è omicidio uccidere un cuore fermare un cuore che batte perché già l'embrione a pochi giorni ha un cuore che batte fermare un cuore che batte è omicidio non mi interessa niente quello che vi dice lo Stato lo Stato giace sotto il potere del maligno una donna lo sa esiste anche la depressione post aborto donne completamente atee che dopo abortire vengono per forza non è per forza significa che nella coscienza dell'uomo la coscienza dell'uomo della donna sa di avere ucciso una creatura e una mamma lo capisce e lo sa sa che ha ucciso suo figlio viva l'aborto viva la libertà grazie non è la libertà di chi scegli di uccidere vedi quanto sei ipocrita è la libertà e quel bambino non ha avuto la libertà vada in Iran ripeti vada in Iran vada in Iran questo è l'egoismo ma non è egoismo è la realtà questo è l'egoismo del mondo lui vuole la libertà di uccidere ma un bambino non ha la libertà di nascere sei un ipocrita e sei sotto la potestà del nemico ma dov'è sto demonio ma dov'è sto demonio non lo vedo sto demonio tu stai dicendo che tu hai il diritto di uccidere il bambino ha il diritto di nascere sei un ipocrita no non c'è nessuna vita non c'è nessuna vita Lizio non c'è alcuna vita lasciami parlare la stessa cosa la stessa cosa faceva l'ideologia nazista ma non ti sapevo i quali gli ebrei non erano umani i polacchi erano subumani e quindi gli ariani avevano il diritto di ucciderli tu in questo momento dici un bambino nella pancia non è un umano non è un bambino quindi tu sei un nazista ti devi ravedere io sono un nazista non mi ravederò Alessio Lizio grazie applausi oppure no oppure fischi oppure fischi non voglio i vostri applausi non li vuole io voglio l'approvazione da Dio non vostra loro vivono dei vostri applausi io vivo della grazia che Dio mi concede ogni giorno benissimo e io prego che il Signore oggi tocchi i cuori ma senta Lizio nonostante il biglietto del treno per venire qui non gliel'ha pagato il Signore gliel'ha pagato Radio 24 esatto mi avete invitato sono stato invitato sono stato invitato mi avete pagato ma siccome anche lì mostri la tua ingenerosità la tua scortesia perché sei un maleducato perché sei un gran maleducato dica grazie a chi l'ha ospitata qui per i suoi deliri a Giuseppe ho detto grazie a Matteo ho detto che io ho detto che io ho detto che io a Domenico tu sei un gran io non l'ho invitata io non l'ho invitata io non l'ho invitato nessuno degli ospiti esatto perché non hai nemmeno l'autorità in questo studio di invitare non invito nessuno di voi nessuno nessuno Amen grazie grazie a tutti fermi grazie Alessio grazie Amen ecco questo era il demonio questo era il demonio l'hotel 9 giugno a Bologna R2B Research to Business accende i riflettori sul talento exhibition conferenze e laboratori con esperti internazionali imprese università e istituzioni per rendere l'Italia un paese per giovani vai su www.r2b.it R2B è promosso da Regione Emilia Romagna organizzato da Artere Bologna Fiere e finanziato con fondi europei Emilia Romagna il futuro lo facciamo insieme piccoli prezzi per ogni esigenza sconta su di noi perché Darka Planet c'è fino al 30% di sconto su tanti prodotti pensati per ogni fase della vita del tuo pet scopri di più in store o su arcaplanet.it arcaplanet pet store pet stories oggi tutti parlano di intelligenza artificiale ma il tuo software gestionale è intelligente? l'IRP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo IRP in grado di imparare da solo oltre a dialogare con gli impianti per Industri 4.0 e gestire tutti i processi di produzione pianificazione logistica qualità CRM finanze amministrazione scopri l'IRP più completo e intelligente su centrosoftware.com Centro Software i migliori IRP per le imprese italiane denti che si muovono gengive che sanguinano e si ritirano alitosi vieni da IMI e DN ed entra nell'odontoiatria del futuro con un flusso di lavoro al 100% digitale dai nostri laboratori di ricerca la soluzione oggi la parodontite si può curare senza estrazioni o impianti non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere i tuoi chiama all'800 090 106 o visita il sito iniedn.com tutte le direzioni sanitarie su www.iniedn.com il giro d'italia di Giovanni Rana è di nuovo in giro caponata burrata cime di rape acciughe porchetta di aricia IGP crudo squacquerone rucola nel cuore di quattro golosi ravioli il giro d'italia di Giovanni Rana il gusto di superarsi dal 25 al 28 maggio vi aspettiamo al festival dell'economia di Trento con un palinsesto straordinario grazie al Trentino e al gruppo 24 ore il futuro del futuro le sfide di un mondo nuovo e il tema della diciottesima edizione oltre 260 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri festival dell'economia di Trento dal 25 al 28 maggio info su festivaleconomia.it si ringraziano i top partner Intesa San Paolo e Conf Cooperative hai il diabete? sai come il cibo che ami influisce sulla tua glicemia? con Frista e Libre 2 puoi sapere in ogni momento il valore e l'andamento del glucosio con una semplice scansione sul tuo cellulare anche senza pungerti gestisci il tuo diabete consapevolmente richiedi un sensore gratuito Freestyle Libre 2 sul sito freestyle.abot il sistema Freestyle Libre 2 e l'app Freestyle Libre Link sono dispositivi medici CE 2797 leggere le istruzioni d'uso let's go tu hai delle mega idee da MediaWorld ci sono i mega sconti dal 25 al 31 maggio approfitta delle migliori offerte sulla migliore tecnologia QLED TV Samsung 55 pollici con il 40% di sconto a soli 599,99 euro MediaWorld let's go la zanzara vorreste imparare un attimo la tensione con questa canzone Trento ci siete c'è una trasmissione che è molto scorretta Cruciani e Parenzo ci fanno la scaletta la gente che partecipa non sta mai zitta ci sta il reditaro che si gratta i coglioni ci sta il gelataio che grida Terroni ci sta pure il gay guarito con gli ultrasuoni miracolo alleluia tutta la piazza alleluia 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 bravo 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 veramente è la cosa più bella della trasmissione bravo allora ragazzi improvvisata totalmente improvvisata totalmente da Ruggero questo è talento grandissimo Ruggero dei Timidi che festeggia i 10 anni posso dirti questi sono soldi ben spesi ad esempio che non ci sono che non ci sono esatto allora abbiamo con noi Daniela Martani buonasera 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 a tutti evviva evviva mi applaudono meno male assolutamente sentiamo la canzone della Martani no 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 come senti che roba dai senti che bella però è bella si l'introduzione dura 90 minuti senti che roba senti che ma la siena pagate secondo me è arrivata una lira secondo me è pazzesca questa senti che roba senti sta su youtube la canzone silenzi tra di noi si è una canzone d'amore non so se tu lo sai che significa amore allora grazie grazie regina ah lo so da memoria vedi agghiacciante non sei agghiacciante agghiacciante grazie un applauso ma abbiamo abbiamo chiamato Daniela Martani non per le canzoni no no non sarebbe ti pareva ma assolutamente no ma per una questione centrale che è la questione dell'orso oggi è stato deciso oggi è stato deciso di non uccidere JJ Minchia come lo dico io c'ha un nome si chiama Gaglia comunque è una femmina ha dei cuccioli non do nomi agli orsi hanno dei nomi non mi interessa come in Abruzzo che esistono gli orsi che hanno i nomi non mi interessa io sono diventato pro abbattimento dell'orso ma tu perché sei un malato di mente perché avete trasformato questa vicenda in una vicenda ignobile no no in una vicenda ignobile l'unico ignobile qui è Fugatti no no non lo puoi dire assolutamente ma il presidente della regione trentina ma non mi interessa proprio per questo ma lui deve governare il fenomeno ma lui governa in un mal modo cioè lui sta sfruttando la questione degli orsi per la campagna elettorale voi lo sapete questo lo sapete che si sta impuntando sugli orsi perché vuole essere eletto ad ottobre ma ti pare a te che questo è un problema ma se io potessi votare qualcuno qua potrei Fugatti tutta la vita quando uno gli orsi sono stati rintrodotti proprio dalla regione trentina questo è vero milioni di euro milioni di euro questo è vero lui è stato un incapace non è stato incapace a gestire gli orsi adesso la colpa è gli orsi perché lo vuole uccidere secondo te perché lo vuole uccidere perché è un incapace perché la colpa è la sua no ma perché lo vuole uccidere l'orso è già in galera no non c'entra niente l'orso infatti il problema è Fugatti il problema è che lui non ha fatto non ha preso alcuni procedimenti io sono per la moratoria per me l'orso non deve essere ucciso l'orso non deve essere ucciso non ti dico solo che l'orso non deve essere ucciso se devi fare il maleducato l'orso non deve devi parlare sopra caro mio l'orso non deve essere ucciso però deve stare a domiciliare questo mi sembra ma che domiciliare ma non ho capito ma scusami voglio capire una cosa invece tutti gli cacciatori che ammazzano le persone ogni anno sai quante persone sono state ammazzate questa stagione di caccia a 22 persone 22 persone sai quante persone sono state ammazzate in 10 anni sono state ammazzate 220 persone non li fanno niente al massimo gli tolgono il porto d'armi hai capito sai gli orsi in teoria quante persone hanno ammazzato da quando sono stati rintrodotti cioè dal 2000 siamo nel 2023 una persona una io avrei paura di andare in un bosco quando ci stanno i cacciatori in giro perché ti potrebbero arrivare pallotto le vaganti in testa assolutamente no sono meglio gli orsi dei cacciatori bisogna eliminare i cacciatori sulla caccia non dice niente nessuno come eliminare i cacciatori eliminarli eliminarli non devono non devono esistere non devono esistere assolutamente c'è stato anche un referendum la caccia si può fare guarda il 90% delle persone è contare alla caccia caccia regolata tu non puoi andare a farti una passeggiata in un bosco ma come io vado sempre in bosco tutti gli anni ma quale pallottola è più riscosa la zanzara di un bosco del trentino ma che dici ma non l'orso non l'orso ci sono più rincogniti qui per la campagna elettorale è vergognoso vergognoso si dovrebbe dimettere invece di stare ancora a governo allora scusi un attimo io ho mangiato l'altro giorno la carne di orso buonissima l'ho detto prima non mi toccare poi comunque sei vomitevole c'è quel volto a stomaco per una roba di oggi vergognati ma vergognati ma che buonissima stai zitto stai zitto che sei vergognoso a parte che è vietata in Italia è vietata in Italia non si può mangiare Fugatti fra l'altro si era fatto arrivare la carne di orso durante un banchetto della lega vergogna come si può lasciare in mano ad una persona così che poi che panchetta con la carne di orso la gestione degli orsi lo decidono gli abitanti del trentino lei non rompe i coglioni no tu non rompere tra l'altro hai detto anche che bisogna boicottare il trentino bisogna boicottare il trentino fino a quando c'è Fugatti ma questa è pazza vuole togliervi i soldi fino a quando c'è Fugatti mi vuole togliere i quattrini sta matta ma che matta matta lo dice a tua sorella ma questa è pazza vuole poi venire qui e dire boicottiamo il trentino è una vergogna assoluta fino a quando c'è Fugatti se voi votate Fugatti noi promuoviamo la boicottaggio del trentino tanto sei venuta qua e avrei speso per un caffè oggi io sono venuta qua sono venuta qua per difendere gli orsi per far capire a loro che la colpa non è degli orsi ma di chi governa questa regione che ha fatto una cattivissima pubblicità ma smetta ma la smetta abbattiamo quest'orso e basta abbattiamole e basta non se ne va di più in altre parti del mondo gli orsi sono una risorsa economica hai capito ma non è vero nei Stati Uniti e in Canada addirittura si fanno le vacanze che non ci sono gli orsi avete una fortuna enorme di avere gli orsi in questa regione che erano animali estinte che sono stati riportati qua avete una grandissima fortuna ma chi è che esce in un bosco e c'ha la fortuna di incontrarselo fra l'altro gli orsi hanno una paura fottuta degli uomini appena ti incontrano scappano perché animali selvatici lo sanno che gli uomini sono degli assassini ma uomini non è che sono degli assassini la Slovenia la Slovenia la Slovenia è un posto civile io sono andato lì ma che civile aspetta come no adesso stai attaccando la Slovenia dichiara guerra alla Slovenia io sono andato in Slovenia ho preso prelevato una carne di orso buonissima certificata l'ho portata in Italia ha cucinata e l'ho mangiata in Italia tutti devi fare curare da un bravo psichiatra se vuoi ti do il numero di qualcuno ti porto io dove l'hai mangiata questa carne? sei matto affari miei in friudis voglio chiedere al pubblico qui ma anche al pubblico da casa siccome ci sono dei posti che sono più civilizzati di altri per esempio in Cina si mangiano i cani tutti a piangere perché mangiano i cani e i gatti ma voi vogliono i cani e i gatti il vostro cane vogliono i cani e i gatti dite la verità dovete rispondere mai perché mai ma certo che mai allora siccome in Italia si è vietata la garden di orso ci sarà un motivo ma certo è giusto infatti ma è giusto è vietato perché gli orsi sono animali selvatici in via d'estinzione e sono protetti dallo stato italiano la mucca la mangiamo la mucca va mangiata la mucca bella bistecca non va mangiata ma neanche la mucca grazie per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro è l'energia di Repower efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda elettricità e gas inclusi Repower l'energia che ti serve zero spese apertura conto zero imposta di bollo per il cliente ma pieno di interessi abbatti i costi e fai fruttare i tuoi risparmi con si conto deposito il conto deposito garantito di Banca Sistema che assicura rendimenti su base annua dal 3,2% a 3 mesi fino al 4,5% vincoli da 3 mesi a 120 mesi messaggio pubblicitario con finalità promozionale per termine e condizioni consulta i fogli informativi in filiale o su bancasistema.it sogni un prato perfetto senza sforzo ci pensa Ambrogio il robot rasa erba innovativo e made in Italy ideale per qualsiasi giardino affidati al maggiordomo del verde dal cuore tecnologico scopri tutti i modelli su ambrogiorobot.com la carta europea dei diritti digitali e il senso dell'innovazione come è nata e che impatto avrà la nuova carta europea dei diritti digitali tra inclusione e libertà per una società sempre più connessa il codice del futuro di Roberto Viola e Luca De Biase dal 25 maggio in edicola con il sole 24 ore a 12 euro e 90 in più e in libreria come fare buon uso del ticket restaurant in almeno 5 modi l'avvocato e commercialista Carlo Alberto Micheli in collaborazione con Eden Red Italia ce ne racconta uno il buon uso per le aziende possiamo identificare i principali vantaggi che le aziende hanno con l'utilizzo dei ticket restaurant permettono di gratificare i propri dipendenti con un benefit esentasse al 100% deducibile per l'imprenditore un importo netto che consente a chi lo riceve di far fronte ai bisogni quotidiani come ad esempio fare la spesa sono flessibili decidi tu quanto ordinarne con che valore formato e a chi assegnarli consentono inoltre all'azienda la riduzione dell'imponibile fiscale con conseguenti riduzioni di imposte Ticket Restaurant aiuta aziende liberi professionisti a risparmiare fanno il buon uso scopri di più su ticketrestaurant.it Fineco è tempo di investire con noi vi presenta Burs in diretta Buonasera continua l'andamento positivo dei listini americani in questo momento il Dow Jones segna più 0,95% Standard & Poor's più 1,27 Nasdaq più 2,14 la schiarita sul debito americano ha risollevato anche le borse europee che infatti hanno chiuso questa settimana sull'onda dell'ottimismo Parigi più 1,24 Francoforte più 1,2% leggermente più cauta Londra più 0,74 Milano più 1,16 e a Piazza Affari tre titoli principali migliori ST più 3,89 Interpump più 2,76 Amplifon più 2,48 invece i titoli che sono andati peggio oggi Erg meno 0,61 Telecom meno 0,58 Intesa meno 0,27 è tutto sono Paolo Lovo Sales Manager Italia di Dal Negro da oltre un secolo fabbrichiamo carte e giochi da tavolo in cui si fondono tradizione innovazione e qualità nel 2021 per semplificare le nostre telecomunicazioni abbiamo scelto Via Nova con cui condividiamo la passione per il lavoro e l'attenzione ai dettagli per trascorrere momenti di gioia con parenti e amici scegliete le nostre carte ma per le telecomunicazioni della vostra impresa vi consigliamo Via Nova Via Nova chiama il 145 e ti rispondiamo in tre squilli proprio ora negli ospedali di emergency nel mondo qualcuno sta ricevendo le cure di cui ha bisogno dona il 5x1000 a emergency codice fiscale 971-471-10155 scopri di più su 5x1000.emergency.it e ora passiamo a auto serena per quanto se ti senti tu ci senti dai ascolto a chi parla chiaro con Audi Service hai sempre costi trasparenti e manutenzione di alta qualità su tutto il territorio nazionale visita la pagina prezzi chiari su Audi.it e scopri gli interventi di manutenzione con tariffe dedicate presso tutti i service partner Audi offerte valide fino al 30 giugno l'arte navale torna all'arsenale di Venezia dal 31 maggio al 4 giugno con il salone nautico l'antico complesso di cantieri navali sarà la vetrina della nautica internazionale martedì 30 maggio Radio 24 sarà in diretta con Focus Economia in anteprima sulle novità del salone nautico Venezia info su radio24.it e salone nautico punto venezia punto it la zanzara eccoci qua eccoci qua ragazzi Trento ancora tantissima gente qui tantissima gente aumenta addirittura voglio fare un saluto veloce al dottor Bambalau anche se poi lo chiameremo dal teatro però Bambalau vediamo adesso voglio fare i 10 minuti finali con due signori che sono avuti qui appositamente per parlare con noi questo va benissimo è una signora bionda molto simpatica elegante mi sembra carina è un suo accompagnatore un marito non lo so sentite sentite il telefono che squilla o no? si sente? si vediamo dov'è il ministro Bambalau vede squilla ma non risponde questo è un po' ecco pronto? Bambalau sono Parenzo caro fratello come stai? non ti posso caro mio ti voglio veramente bene Bambalau porta io una puntata della zanzara durissima oggi e manda un saluto agli amici qui di Trento al dottor Fugatti a tutta la Confindustria a Radio 24 se puoi mandare un saluto al volo caro Bamba allora come devo procedere che non lo so fare? no manda solo un saluto un saluto forte agli amici di Radio 24 al gruppo Sole 24 Ore alla zanzara mandalo mandalo sei in diretta fratello mio vai allora vi saluto e mi fa molto piacere quando sento che fate un lavoro verso il bene dell'umanità insomma grazie Bambalau grazie Bambalau ci devo dire lavoro il bene dell'umanità insomma e abbiamo con noi una coppia formata da Anna Lisa Adomic Blonde buonasera 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 una bella coppia e il marito Marco buonasera voi avete fatto una start up avete un'azienda abbiamo un'azienda interessante finalmente c'è una notizia visto che siamo a sole 24 ore di cosa si occupa la vostra azienda non so se voglio saperlo secondo te guardandomi no non lo so magari di cosmetica di cosa si occupa la signorina Anna Lisa è una delle star di OnlyFans in Italia è una delle star di OnlyFans e il marito collabora con questa cosa lei ha ancora un lavoro fisso no ha lasciato il lavoro fisso mollato il lavoro fisso e abbiamo aperto un'azienda insieme la realtà è questa aveva un lavoro fisso che lavoro fisso era signor Marco? lavoravo in ufficio da ero dipendente in un'azienda di metano bene lei ha lasciato questa azienda perché ormai guadagna un sacco di soldi diciamo la verità guadagna più soldi guadagna bene facendo OnlyFans insieme a sua moglie ma lei collabora anche ai video della sua consorte assolutamente sì ah che bello che tipo di video fa la signora? lo vuoi spiegare tu? contenuti per adulti per dirlo in modo educato e gentile contenuti per adulti di tutti i tipi diciamo hai sordito con il piede l'abbiamo già con il piede con i piedini cosa vuol dire sordire con i piedi? no nel senso che i piedini sono un asset un asset importante di questa azienda dei suoi piedi un tipo di contenuto ma Parenzo secondo lei potrebbe vendere i suoi calzini e i suoi piedi? no no assolutamente sì assolutamente no assolutamente io mi immagino che se facessimo un sondaggio i calzini andrebbero a ruba a ruba poi dopo tutta questa giornata immagino cioè i calzini adesso vuoi far vedere il tuo calzino un attimo i tuoi calzini sudati oggi sarebbero il top potrebbero valere qualcosa lei che è un po' l'economista io tecnicamente non sudo quasi mai però potrebbero valere molto potrebbero valere molto anche 200-300 dollari sì si possono mettere all'asta ma non voglio mettere all'asta nulla i calzini sudati di Parenzo qualcuno può anche comprare che ti fai che ti fai 600 euro a mezza vacanzella non mi piace l'idea un upgrade dell'aereo per te non mi piace l'idea non mi piace l'idea io francamente ci sto pensando a vendere qualche cosa vendi quello che ti pare qualche camicia sudata esatto allora voi però oltre a questo lavoro che abbiamo spiegato più volte lei sta intanto calpestando il tappetino giusto? tra l'altro è comodissimo il tappetino qua c'è un tappetino umano un tappetino umano che ci è venuta a trovare ho proprio i tacchi piantati sulla sua pancia uno che fa dimestiere non fa dimestiere quello ma il suo secondo lavoro è fare il tappetino umano va nei locali si fa schiacciare le terga è un'umanità disgraziata da questo punto di vista non voglio dare ragione all'inizio perché è un altro matto però è un'umanità un po' disgraziata che ti dici che fa anche? beh insomma dai no però loro non sono disgraziati posso dire è una coppia aperta così diciamo la verità che significa coppia aperta? ecco lo spieghi apparenzo che ancora dopo mille puntate cioè siete fidanzati voi siete no sposati siamo sposati stiamo insieme da 11 anni siamo sposati da 4-5 avete dei figli? non abbiamo figli coppia aperta significa che possiamo includere oltre a noi due altre persone nella coppia a livello sessuale no questo è il punto questo no questo no questo no che tu non lo faresti no tutto non lo faresti però in realtà è anche il tema del mio ultimo lavoro come si chiama coppia no non è un lavoro è una porcheria no non è una porcheria io non lo chiami lavoro perché non è un lavoro stiglitz scrivere devo leggere se lo ho a casa sono sempre curiosa non si può chiamare lavoro un'inchiesta che come dire racconta non è un lavoro racconta delle realtà un libro che costa 450 euro ma io non ho mai visto comunque siamo analisa voi siete una coppia aperta la cosa più curiosa è che suo marito come dire siete aperti anche a un'altra collaborazione al fatto che lei abbia un rapporto fisso con un altro questo mi inquieta un po' cioè di solito le coppie aperte se ne fottono dell'aspetto sentimentale dipende lei invece potrebbe in teoria e anche lui immagino innamorarsi di un'altra persona esatto esatto che quindi si va ancora oltre la coppia aperta ma verso il poliamore che è ancora diverso lei si considera un po' poliamorosa o capace di esserlo verso donne verso uomini tutto all inclusive questo va benissimo lei come si trova in questa situazione lei ama guardare la sua fidanzata la sua moglie mentre fa sesso con altri si anche o guardare o comunque includermi dipende poi dalla situazione ovviamente certo è normale però voi riuscite ancora a fare sesso da soli certo ovviamente no perché questo potrebbe essere un problema ogni tanto cioè nel senso chi comincia a fare sesso con più persone includendo terze persone rimane comunque un sacco di complicità secondo me anche proprio perché apri la coppia rimane la complicità verso l'interno cioè voi avete delle fantasie quando fate sesso insieme evidentemente avete delle fantasie sviluppate delle fantasie vi parlate delle fantasie ti ho visto fare questo ti ho visto fare quest'altro ci può anche succedere ci può anche vi succedere non vi può succedere vi succede ma che bello ma perché tu rifiuti questa realtà prima o poi non è convinto lui no assolutamente no io vi chiedo scusa ma finché non si prova per il one to one no ma non potrei sopportarlo lui non potrebbe sopportarlo perché è fissato per una cosa e qui mi viene in soccorso Marco che il sesso fuori dalla coppia è peccato no peccato la realtà è che uno può continuare ad amare uno può continuare ad amare tranquillamente e fare sesso con altre persone questo è abbastanza chiaro siete d'accordo voi o no siete monocami convinti beh insomma vedete che ci hanno inculcato c'è un po' di parenzismo in giro c'è molto parenzismo in giro la cosa drammatica è questa la cosa drammatica è che ormai ci hanno inculcato da tantissimi anni l'idea che il sesso fuori dalla coppia è sbagliato è un amore l'amore è quella roba lì tu ami una persona e vorresti che sia tu ma sono due cose separate l'amore e il sesso posso stare insieme allora uno non prende un impegno con una persona non dico per tutta la vita perché non è mai per tutta la vita però comunque è un impegno ecco qual è la situazione caro Marco che le piace più diciamo in cui vede protagonista in cui c'è protagonista la sua moglie la signora c'è la situazione ideale la situazione ideale in cui lei ciò come fate sesso con altre persone naturalmente la sua situazione ideale per spiegarlo agli amici qui presenti anche agli amici della Confindustria che sono sempre molto attenti a queste dinamiche imprenditoriali questa è un'azienda contribuiscono al PIL dell'Italia più di tanta gente non ti preoccupare ma non c'è innovazione lei paga le tasse sì sì anche tante secondo quale categoria paga le tasse l'aliquota del 43 45 contenuti contenuti per adulti quindi content creator siamo una società abbiamo un SRL qual è il codice a teco con cui si parla qual è? non lo so in realtà è un SRL però ogni società ha un codice a teco produzione di video di contenuti sarà il codice a teco anche quello cioè paga le tasse anche alte penso ma come avete fatto? l'aliquota massima penso il 43% voi siete andati in camera di commercio e avete detto noi vogliamo fare questa porcheria e quindi metta come ragione sociale po' produzione di porcherie dal notaio dal commercialista e tutto e cosa ha detto al notaio? io voglio produrre porcherie voglio che mia moglie venga con quattro persone io le riprendo e il notaio che ha detto bene benissimo firmiamo l'altro da lì ma dai ma su allora però io posso dire una cosa non c'è nulla di male e la stranezza risiede nella tua mentalità cioè la tua mentalità ormai è talmente ristretta non so se il dottor Ruggero secondo me no il dottor Ruggero è monogamo il dottor Ruggero è un altro monogamo perché qui provare la monogamia è finta la realtà dice altro che la monogamia non esiste stavo chiedendo a Marco qual è la sua situazione ideale allora la mia o quella di Annalisa? no la tua poi chiedo anche ad Annalisa la mia beh con lei è un'altra donna assolutamente ah con lei è un'altra donna sì 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 assolutamente credo questa è banale banalissima invece la tua qual è? tu è un altro uomo cioè no anche coppia quindi o due singoli un uomo e una donna oppure una coppia sì mi piace un sacco giocare con entrambi i sessi con entrambi i sessi giocare con entrambi i sessi ogni tanto si utilizza la parola giocare che parezza non concepisce proprio perché è una cosa leggera è stesso non è una cosa impegnativa non ci promettiamo di stare insieme tutta la vita in quel contesto però io a me piacciono questo tipo di coppie perché alla fine credo che la sincerità e la trasparenza sia una cosa fondamentale ma perché tutti si dichiarano monogami ma poi quanti si fanno le corna dietro questo può capitare purtroppo no non è monogamia allora non è monogamia assolutamente no però un equilibrio si può raggiungere anche con l'ipocrisia ci sono molte persone qui sicuramente che non dicono di aver tradito ma in realtà hanno tradito perché il rapporto di coppia può avere un suo equilibrio anche nell'ipocrisia più totale purtroppo è così e bisogna apprezzare e in qualche modo comprendere anche tutti i tipi di equilibrio possibile scusi perché avete votato alle ultime elezioni voi ad esempio? no si può dire come non si può dire dite le porcherie pazzesche guardare la moglie con 5 persone io non lo dico ma no questo non si può dire perché non mi espongo ma su questo non mi espongo centrodestra però avete votato ma avete detto no si può dire centrodestra io non lo dico ma lei ogni tanto ha fatto anche delle gangbang signorina? anche questo non si può dire perché ufficialmente non è uscito ah farà anche delle gangbang in quanti uomini scusi quanti signorina in quanti uomini è andata? nel privato 3 o 4 3 o 4 con lei solo con lei a lei è piaciuta? no c'erano anche altri ragazzi c'erano anche io c'erano anche con lei grande mucchio va bene ragazzi grazie mille grazie per questo spazio grazie a voi imprenditori aziende qui al festival dell'economia producono pill non rompete i coglioni producono pill molto più di altre aziende non c'è dubbio vai Luceno vai c'è una trasmissione che è molto scorretta Cruciani e Parenzo ci fanno la scaletta la gente che partecipa non sta mai zitta ci sta la Martani con l'orso di Trento ci stavano a Marchi senza donascimento ci sta pure un tizio sdraiato sul pavimento e quando lo infilzano con i tacchi urla alleluia 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 grazie Luceno italiani italiani voi ci dovete far bellicare che noi lavoriamo di brutto fino alle sette e mezza alle otto lo dica lo dica a voce alta chi sente la zanzara vuole sbellicarsi quando sono al castello di Carisio voglio ridere ridere grazie a tutti